E' venuto in mezzo Regà c'è stata di taglie, porco Buonasera a tutti e buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 173 di Tintoria, applauso Alla mia destra, al ruolo di co-conduttore, ragazzo molto bello, anche con una t-shirt gialla, Stefano Rapone Stefano come stai? Bene, bene, ciao Bene, grazie, è la prima volta che ti vedo con quella gialla, mi sa No, perché? Forse è la prima volta che la metti in puntata? No, mi sa che l'ho messa Sì? Forse sì Forse è la prima volta che hai la felpa aperta? Con la t-shirt gialla Un omaggio all'Ucraina, come colore Però solo a metà Ucraina, c'è solo giallo, ah no perché la felpa è blu Ah ok, va bene Vabbè Slava Ucraina No, vabbè, è giusto prendere posizioni forti Siamo sempre da Snolo, siamo sempre coprodotti da The Comedy Club Che dici? Che stai a fare? Niente, sto a fare la televisione Come sta a andare? Bene Poi ho visto, no? Bene, bene Beh, hai visto alla fine Io che ne sapevo stare a fare la Jalappas La Jalappas Band, come la chiamo io Sì, sì, sì Bello, sei contento? Sì, dai Loro sono contenti? Loro sono contenti E questo è l'importante E questo A casa tutto bene, la salute? A casa stanno bene Tu? Vabbè Ma bene, bene, dai Non sto a fare la televisione Stai a riposo? Beh, ripeto, sto a fare Teoria No, ti rilassi, nel senso Ti rilassi in questo video? Mi rilasso? Sì? Sì, boh, non lo so, manco troppo Cioè, alla fine Devo fare un sacco di cose C'è un po' di tensione in questo Eh, ma non ho capito In questo dialogo Non ho capito Non ho capito neanch'io perché No, infatti, perché Stavo a fare di relax Ma che domanda è? Ti rilassi? No, ma che No, no, eh Cioè, andava bene come stai? L'hai vissuta come uno? No, no, era per dir Beato te No, però non è vero Stiamo a lavorare Molto, stiamo a lavorare Ah, sì, sì Eh, no, non so se Ma chiami lavoro questo Eh, miniera Spaccare i sassi Quello è un lavoro Non credo che miniera si spacchi Vabbè, comunque sì Nel 2023 ci saranno Le miniere pure si saranno evolute Non c'è Però magari sì Magari sì E quindi rispettiamo tutti i minatori Presenti in sala Che ci ascoltano Fine giornata Cantando canzoni Per Biancanefi Non lo so Che fanno i minatori Ah, sì, no Che fanno i minatori Fanno quello Ci sono i minatori in Italia Ci ascolteranno, sì Ci sono minatori No, certo Le miniere Dove stai? In Sardegna ci stanno le miniere Abbandonate però forse Non lo so Non sappiamo abbastanza Ma perché ci siamo avventurati? Ma che ne so Oggi sta da così Oggi non siamo in controllo della situazione Hai cominciato tu secondo me Vai, vai, prego Vabbè, voglio sapere che fai I prossimi giorni Che stai a fare? Che succede? E che succede? Niente C'è i programmi per il ponte Che ponte c'è? C'è il 2 giugno La festa della Repubblica Ah, no, no Non fai niente Non la festeggi? No, no, non la festeggiamo A casa non la festeggiamo Perché? Perché siamo monarchici Sì, sì No, la sapevo Mai festeggiata La sapevo sta cosa No, no, però Rispettiamo Rispettiamo voi Le nostre festività Sì, sì, sì Vabbè, però Almeno te guardi in televisione Sì, no, me la guardo Mi piace Vede Le cose Le frecce Gli aerei Come si chiama? Le lesce chimiche tricolore Sì Mi piace Quello è verde il controllo mentale Bianco Bianco è una malattia brutta Rosso Rosso è l'arlantismo La passione, pensavo Ci passano Rosso è l'europeismo Sì, però mi piace Perché, insomma, comunque Supporto alla fine Le forze dell'ordine Giusto Che Tanto bene ci fanno Sì, no, è chiaro Sì, sì, sì Ci proteggono No, io pure Io sto in fissa Forse La mia festa preferita È il 2 giugno Devo dire Perché comunque Stai là Ci stanno Cioè c'è il presidente Capito? C'è il presidente della repubblica È quello Però, sì Cioè No, è il capo dello Stato Cioè, comunque Ci rappresenta Cioè lui è Capito? Poi Mattarella Mattarella adesso al di là della carica Che No, no, umanamente Anche bravo Io sto in fissa Sì Perché poi fa il discorso Tutti gli anni Adoro Infatti uno dei vantaggi Di Infatti, insomma, adesso il podcast Sta andando bene Per fortuna E quindi Diciamo Sono entrato In contatto Con i ghost writer Del presidente Che gli scrivono il discorso Per il 2 giugno E chi è? È un team Chiaramente Sono tanti Sono Giorgia Soleri Che vabbè Comunque No, adesso ho lei Lei, Betanima Punzo E poi E poi ci stanno altri Vabbè, comunque Gente Sì, sì No, no Sono bravi Comunque Autori Autori A tutti gli effetti E mi hanno passato il disco Perché sanno che sto in fissa Quindi ho rotto un po' il cazzo E mi hanno passato In anteprima ce l'hai C'è un po' Chiaramente è una bozza Perché mancano ancora Due giorni dei ritocchi finali Però un bel discorso Come sempre D'altronde È così Dice La Repubblica Italiana Ripudia la guerra È importante ricordarlo Soprattutto in questo periodo storico Ma a maggior ragione È adesso Che salutiamo Le forze armate Del nostro paese Che ci proteggono Dai nostri nemici Ci fanno sentire sicuri Di mantenere retta La nostra via Senza interferenze esterne Perché basano i loro principi Sui valori di NordVPN Io stesso ne faccio uso Da quando l'ho ottenuto Con un coupon formidabile Cliccando su NordVPN.com Slash tintoria Trovato nella descrizione Nella puntata Con Maurizio Battista Questo dovrebbe essere Il discorso Del presidente È un bel discorso Bello no no Ci sta Lo condivido Anche perché Io sono Appunto Fan delle forze Dell'ordine La mia preferita È la La postale Se tu vedi Proprio il Il motto Della polizia postale Ci fai caso In latino Però in italiano Significa tipo Basta un click Mi va Quindi Bella Bella Eppure Eppure questa Festa della Repubblica Ce la siamo Certo se questo discorso L'avesse fatto Il re Emanuele Filiberto Sarebbe stato Più bello Però ci accontentiamo Come lo chiami tu Sua maestà Sua maestà Sua maestà Possiamo solo sognare Un giorno Ma Guarda Sua maestà Che fa rima Con Sacla Che era la pubblicità Che faceva Ti ricordi? Sì Sì Quante ne sai Della Sacla Vabbè anche questo Altro Altra pubblicità Questa gratuita Però Che hai voluto fare Sì Alla Sacla Va bene Senti Mi pare che Non è certo Grazie al tuo rispetto Per le istituzioni Della nostra Repubblica Che siamo arrivati Alla puntata 170 3 Non è certo Grazie alla pubblicità Occulta Che facciamo In ogni puntata Che si è arrivata La puntata 170 Quindi deve essere Sicuramente Grazie agli ospiti Straordinari Che abbiamo la fortuna Di invitare ogni volta Quindi senza ulteriori induggi Io andrei a presentare L'ospite La puntata 170 3 Di Tintoria Quindi signore e signori Vi chiedo un applauso Per il Piotta Ciao a tutti Da paura Buonasera Benvenuti Certo pensavo La puntata numero 100 Vabbè No ormai è andata Sarebbe stato bellissimo Palesarmi prima Pensa che 100 Eravamo solo io e Stefano Per dire 70 puntate fa Non eravamo niente E invece adesso 170 Anche adesso Pure a Milano siete stati Ho saputo Pure a Milano Pazzesco Pure a Milano Incredibile Perfino a Milano E così Senti Vabbè Intanto benvenuto Grazie di essere venuto A Tintoria Grazie a voi Grazie anche a tutti Chiaramente i presenti Stefano Si era preparato Una domanda E come stai? Bene Fiducioso In una bella estate Canora Piena di calore Umano E spero anche Proprio Climatico Pronto con Uno spettacolo nuovo Che tra l'altro Però non vorrei Vedi subito Sta cosa E' casa tua Stefano ha chiesto Come stai Perché Partirà Da casa Cioè da Roma Tra pochissimo Cioè Lo dico La data Non so se Dilla Il 2 giugno Al casilino Skypark Siamo tre mesi di festival E quindi E' uno show Un po' Diciamo una sorta Di data zero In casa Con tutta la band Due ore di show Bello Funky Bello tirato Perché ho voglia Devo perdere 4 chili E quindi avevo voglia Di ballare Sudare E cantare con tutti Dalle cose vecchie vecchie A quelle Nuove No infatti Subito domanda Aspetta 2 giugno Tu non vedi la parata Del Ah la parata Non vedo Delle forze Delle orde La parata Non l'ho mai vista In vita mia So che la fanno In televisione Ogni anno La fanno in televisione La mattina Quindi Sì Però Devo dirvi che Non l'ho mai Particolarmente amata La parata Del 2 giugno Cioè diciamo È un Un silenzio composto Rispettoso Educato Però Un afflato Emotivo Della parata Militare Non ci ho mai avuto Ma neanche da bambino Le frecce tricolore Stigette No da bambino Meno Perché C'era ancora mio padre Lui era proprio Laudiava la parata Quindi mi ha Educato Verso Una sorta di Rivoluzione Perenne Contro ogni forma Di divisa E arma Proprio arma Nel senso L'arma Arma Arma Nel senso di Ok Oggetto Ci mancherebbe Oggetti Perché La K47 È l'oggetto Più venduto Al mondo Segue la Coca Cola Cioè nel senso Che segue Che a K47 Medaglia d'oro Coca Cola Medaglia d'argento Sì Vedi Diciamo anche Pepsi Se no si incazzano Diciamo Coca e Pepsi Diciamo Coca e Pepsi Che non sono sponsor Per ora Per ora no Dopo Milano Non lo so Vediamo Una pazza Una cosa Ti posso dire una cosa Se venisse Pepsi Io direi no No Perché Perché a me piace la Coca Cola Vabbè dai che vuol dire La Pepsi Pepsi te lo dico No no Posso dire che lui però È intellettualmente onesto Perché a sto punto Tanto stiamo Va vai vai Ho preso una piega trap Subito Ma che cosa Da poco c'è un binomio Grande onda Lemon soda Quando me l'hanno chiesto Dico Lemon soda cazzo La bevo sempre Spacca C'ha anche la polpa Ma non perché mi stanno Appaccio In questo caso Perché mi è sempre piaciuta Come se fosse Se arriva domani Il Chinotto Neri Dico Il Chinotto Neri Ci ho fatto lo spot Il Chinotto Neri Tipo Mina con la Tassoni Quindi c'è un afflato In questo caso E tu onestamente Dici no Pepsi no Pepsi no Però io ho un'obiezione Perché tu appunto Hai detto Lemon soda Chinotto Che comunque sono di nicchia Chinotto Neri Ho detto Chinotto Neri Scusa Chinotto Neri Mentre invece La Coca Cola È mainstream E da noi La Pepsi È più di nicchia Quindi per questo Dicevo io La Pepsi Sì Stem La Pepsi Di nicchia È antagonista Cioè comunque È un po' più Più indie La Pepsi Da noi Poi in America No Sì Stem Una volta che accetti Pepsi Poi fai di due Allora va mangiata Burger King Che cazzo ti devo dire Allora vale tutto No 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 Vabbè Vabbè Ma mangiata McDonald E ti bela Coca Cola Come i cristiani No su questo Però io appunto Se proprio vuoi Un a zero Ma proprio Un a zero Certo Se appunto Se parte il tour Devi Cioè abbiamo detto Però No no Io penso La terza via Che come tu sai È Dominos Io spero che tornino Dominos Pizza Qui in Italia Che è ancora più di nicchia Perché Non è stata capita Dominos qua Non è stata capita Viene da chiedersi Come mai Perché È uno dei più grandi misteri Un altro grande mistero Cioè questo Dovei raccontarla Anche con un po' di vergogna Però vedo che qua Siamo tre amici Alla fine Non lo sa quasi nessuno Quindi mi sto Insomma raccontando Una volta Per fare un viaggio Sai quelli tipo Weekend Dov'hai? Barcellona Quelli un po' veloci Tre quattro giorni Con la mia compagna Con la mia moglie Diceva Ma andiamo in una città Dove c'è Regà fa troppo ride Perché è trash Taco Bell Cioè che è quello Che fa le cose messicane Ma non so quelle messicane Buone Trash Cioè comunque Junkie Food Ci sono dei meme Su come sta il tuo stomaco Dopo Taco Bell Dopo Taco Bell Sì forse uno l'avrò fatto Io l'ho ispirato Forse io E quindi ha detto Andiamo qui Che credo che fosse Barcellona proprio O Madrid Ma non mi ricordo Perché c'era Taco Bell Cioè non è che siamo andati Per un monumento Per un museo Perché dice Beh però c'è Taco Bell Che in Italia Non è ancora aperto Questo è accaduto Anche una volta Per Kentucky Fried Chicken A Malta Perché non c'era ancora qua Poi quando è aperto qua Dici ci andiamo Vabbè che ci andiamo a fare Ormai è aperto qua Non c'è più gusto E poi Com'è andata da Taco Bell Non ci sono mai Non ho mai mangiato da Taco Bell Siccome non è ancora aperto qua È un sogno Per me Lo adoro Se aprisse qua Ci andrei una volta Diciamo ingresso tecnico E poi temo che Non ci torneresti Un po' come Dominos Pure così Dominos ma sai perché ha fallito? Perché è stata endorsata Da Stefano Rapone Unico in Italia che diceva Oh Dominos sei una bomba Una settimana dopo ha fallito Ma lui l'ha fatto a titolo emotivo Così gratuito È stato endorsato Allora noi diciamo Nomi di tutti i brand Senza Pian Euro Quindi è proprio Caratteristica Scusa L'Aquali 6 Sì che prima Abbiamo La prestigiosa Aquali 6 La prestigiosa Aquali 6 Pure loro non ci danno Un euro Quindi puoi dire Tutti i brand che vuoi Tanto noi non prendiamo soldi Però per questo Ci rende liberi Però se devi nominare Una VPN Non ti sbaglia Perché Se c'è Se c'è una cosa Che Non ci abbiamo padroni Tranne Uno scuro software Che ti permette Di connetterti Facendo Pinterest In altri paesi Però ecco A parte questo Puoi dire quello che vuoi Scusa A questo punto C'è un'altra domanda Tu devi perdere 4 kg Entro il 2 giugno Com'è possibile? No Quello è impossibile No Dal 2 giugno Perché ogni volta dico Cioè stavo in forma prima Prima del covid Stavo a 76 kg Perché Non devo superare Gli 80 psicologici Che infatti ora ho superato Di poco Ma l'ho superato Perché facevo i live Quindi comunque Due ore Su di fare Io facevo i live Sì per la musica Ma li facevo E li farò Per mangiare Perché Sì perché Con il live Tutto ciò che Assumo Prima Viene bruciato Quindi non c'è problema Il problema è che Poi col covid I live non li ho fatti Per un anno Il secondo anno un po' Ma comunque Una quantità diciamo Minore rispetto a quella abituale E quindi sono venuti 4 kg Perché io facevo la vita Come i calciatori no? Finché giocano Che hai mangiato? Eh tipo Un chilo di pasta Mezzo chilo di parmigiano Cioè tanto Che te frega bruci Poi come interrompono Questa tipologia di vita E diventano più sedentari C'è un effetto Hulk Sì Hulk anzi è fin troppo lusinghiero Sì lusinghiero E quindi è andata un po' così Io continuavo a fare la vita di prima Dicevo tanto poi faccio i live Però i live Ci hanno messo un po' a tornare Sì Quindi nel frattempo Ho preso qualche Etto in più Anche se poi Chi mi vede dal vivo Dice Ah ma siete Ammazza Ma pensavo che eri obeso Dico Ma raga ma quando mai? Perché io comunque A livello Un po' ero più grasso Vent'anni fa Poi vestivo come si usava allora Cioè XXXXL Quindi una cosa Senza senso Però andava di moda così Vestirsi super largo E qualcuno può permetterselo Io no Però lo facevo Follia E quindi sembravo molto più largo Più a livello così di Non so Video Cose Quelle poche cose televisive che faccio Tendo a diventare più A risultare più chiatto La telecamera da aggiungere Sì sì Quanti chili? Ottanta Tanti Ottanta chili Il 20% del peso No non lo so Però comunque tende a Chi più chi meno Però vedi questa qua Un'altra differenza Che è vantaggiosa per i musicisti Cioè i cantanti Che loro fanno i live Si muovono e sudano Noi stiamo là Stiamo fermi Ma un po' si suda con le luci Eh forse sì Però è tipo più sauna Però che c'è Vabbè qui siamo seduti Quindi ancora peggio Cioè Ancora peggio di quando Noi siamo da soli fermi sul palco Ma non è che proprio Bruci tantissime calorie E poi comunque mangi Ti stanchi Poi mangi a mezzanotte E poi a fine tour dici Ma sti sei chili Poi ti fai un hamburger a mezzanotte Ti fai un hamburger a mezzanotte Una birra prima Una dopo Poi ti dicono Dai Dania che fai non bevi E tu dici no Quindi ti bevi un gin tonic E poi finisci il tour E dici ah sei ingrazzato È una tragedia La mia bruta è Roma Libre Roma Libre Roma Libre? Sì è un cocktail E che consiste? È come il Cuba Libre Però levi la Pepsi Sì Purtroppo anche la Coca E metti il chinotto Ah è buono Io l'odoro Cioè nessuno lo conosce Poi devo andare Dico come fai a Roma Libre Ma che è? Dico guarda È tutto uguale Però è una cosa così Un po' emotiva mia Leva il prodotto così americano E mettimi il chinotto Il chinotto neri Se ti metto nel San Pellegrino A bozio va in puzza? No a bozio Comunque lo sta rovinando Ma invece Perché aumenta la dose Di zuccherina È spiacevole E' pure troppo frizzante Il san Pellegrino Il chinotto l'urisi C'è anche di peggio Qual è? Il chinotto San Benedetto San Benedetto? Eh c'è pure quello Quello è proprio Cerchi infuso Non c'è infuso Ah ok Mi sembra di ricordare Che una volta lo assaggiai Rimasi fortemente deluso Scottato Scottato sì Poi c'è anche uno l'urisia Che c'ha Italy Devo dire Chinotto l'uris Quello è buono E quella è un po' la grande illusione Secondo me Cioè Italy 7 euro per un chinotto Dice vabbè però C'ha ovviamente i chinotti Spremuti mezz'ora fa Da qualcuno Sulla costiera E invece in realtà Comunque Sì è meglio Di quell'altro Che ho detto prima Ma insomma Non è certo Il valore Diciamo che C'è anche il colore Che è un po' più chiaro Quindi forse fa meno male Non lo so Perché se non è nero Non lo so Questo è il bias Razzista di Stefano Sì comunque Se è meno nero Fa meno male In qualche modo sì Perché è nero Quello è nero scuro Come il petrolio Quello invece è nero Pelle di africano Ah quello per quello Quindi è più buono Ok va bene Ne sei uscito Alla grandissima Chiedo scusa Scusa alle compagnie Petrolifere E a tutti Gli afrodiscendenti Del mondo A tutti A tutti Stefano C'era anche un'altra Domanda Ah Sì Eravamo andati bene Che hai fatto oggi Oggi sono andato Stamattina Dagli amici comuni Del trio Medusa A radio DJ Diciamo Sezione romana E Poi Poi sono andato Al mercatino Enfranchising Che è un luogo Che adoro E sai quei mercatini Che vengono la roba usata Sì sì Posso chiederti Quale Eh siccome stavo lì A Ostiense Quello A Ostiense Mola via No 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 Non mi sono preparato La sufficienza Mercatino Sì è quello che si chiama Mercatino Sì ce ne stanno Tipo ormai A Roma perché Sì sì C'è un fatto Che va analizzato Vai Nella classifica Dei mercatini italiani Cioè di quelli Che vendono di più La top ten È occupata Sette posti su dieci Da mercatini Di Roma Milano Non ha Il mercatino Non ce ne è? No No perché a Milano È ancora motivo di vergogna Comprare qualcosa Di seconda Terza e quarta mano A Roma Che è capo stipido Da questo punto di vista Non solo non è motivo Di vergogna Motivo di vanto Eh sì Questo non l'ho pagato Un cazzo Il mercatino L'ha capito Che tra l'altro La sede fiscale Credo che sia a Verona E ha detto vabbè Cominciamo da quelli Che l'hanno capito E quindi Roma Ogni quartiere C'è il suo Anche due Perché Ah sono andato pure Quello a Porta Maggiore Certo Quello storico Però Dici E gli armadi E poi Però Perché Ho cambiato Un anno e mezzo fa C'era un vinile Che ho trovato Ah vabbè Te vai per vinili Io andavo per arredare a casa Che poi il vinile Non è proprio Non c'entra Che hai fatto? Per arredare casa Cioè io devo comprare tutto C'ho divano preso Con gli Albani C'ho Gli ho battuti tutti No io pure Durante Durante il Covid Che non si suonava Ogni domenica Che fai? Porta Portese Mercatino Porta Portese Non c'era più spazio A casa Erano diventate Una cosa Ossessivo Compulsiva Però comunque Intanto mettevo via Ma solo vinili O anche altre cose? No no Libri Vinili CD Raga DVD Che è una cosa Come quando mia nonna Diceva Ma sulla filodiffusione Diceva no Ma che cosa cazzo è La filodiffusione Degli oggetti Legati così Al mondo che fu E Magari qualcosa Di qualche quadro Così serigrafia Così insomma Diciamo comunque Creatività Non mobili No perché Come uno spazio siderale C'è già una marea Mutuati Da nonni e genitori antichi Non so più dove metterli Perché Andando avanti No E sarà sempre più così Le case Cioè i nonni Abitavano in 120 metri quadrati I genitori in 90 I figli in 60 Più c'è la roba Dei nonni Dei genitori Dei figli Quindi tutto 240 metri quadrati Devono entrare in 60 Con i soffitti Che si abbassano Sempre più Non so come è possibile Quindi c'ho delle cose Al box Che poi la marciscono Per lo più E tengo a casa Le cose che ritengo Più importanti Tra cui chiaramente I dischi Per esempio oggi Ho preso un disco Che non mi piace Oggi dove l'hai preso? A Porta Maggiore A Porta Maggiore Non mi piace Cioè musicalmente Non è proprio il mondo mio È una cosa anni 80 Un po' elettronica Però È geniale Perché la band Si chiama Funk Fulla Cioè io ho sbroccato A questa cosa Dice Cioè fanfulla Scritto Funk Fulla Cioè devo comprare Subito per la copertina Infatti poi la metto in studio Vedi La cosa che hai comprato Al mercatino Di cui vai più orgoglioso Eh questo È stato il famoso Affaruccio Perché No perché Al mercatino C'è due cose Uno L'oggetto che Ti emoziona No Ma poi Anche il fatto Che tu lo salvi No Io da bambino Volevo fare l'archeologo Perché vedendo Indiana Jones Mi illudevo Che l'archeologo Italiano Fa una vita Particamente Avventurosa Poi quando Poi non l'ho fatto Beh questo Ormai è chiaro a tutti Quando ho conosciuto Quelli che l'hanno fatto Ho detto Ma meno male Che non l'hai fatto Perché non ti diverti Due coglioni così Scaviamo Scaviamo Piove Il fango Non c'è niente Poi musei Non c'è nulla Di avventura Cioè rispettabilissimo Lavoro Ma in realtà Di avventura Ce n'è ben poca E Quindi te un po' Salvi degli oggetti Che sono chiaramente Molto più Moderni Però comunque Oggetti un po' Rari O qualche pezzo unico E quindi diciamo C'è questa doppia azione Emotiva E di Salvatore Di un qualcosa E poi c'è L'affaruccio C'è quando metti insieme Questi tre fattori Emozione Salvatore E diciamo Business Cioè tu compri una cosa Ha una cifra X Che invece vale Dieci cento Volte Quella cifra Ah io pensavo X più due Invece proprio Dieci cento volte In questo caso L'affaruccio è stato Un affarone Ma non è che io lo compro Per rivenderlo Perché purtroppo Per quella malattia Ossessivo compulsiva Dico ma che lo rivendo Ma che sei matto Ce lo tengo lì Ma che lo tocca più Siccome Mio zio D.P. Ora è grande d'età Però insomma Per anni ha dipinto Ha fatto mostre In giro per l'Italia Anche qualcosa all'estero Mi ha introdotto Lui e mio padre Mio padre come appassionato Comunque ha la pittura Quindi io seguo un po' Insomma la pittura E c'era un artista Che non avevo Che si chiama Ugo Nespolo Che è uno dei padri Dei padri della pop art italiana Che ha anche un valore Insomma discreto sul mercato Ma ripeto È nel mio salotto ora E finché non muoio Stare lì Poi decideranno i nipoti Ed è un quadro Che vale 4-5 mila euro Che io non so perché Qual è il matto Che l'ha apprezzato Cioè io Ma posso Fa cose tipo Di bioenergetica Puoi fare tutto Mentre io camminavo Al mercatino Stavo così Passo e dico Ah vedi Ugo Nespolo Una serigrafia Che per chi magari Quei pochi che non lo sanno È un multiplo Cioè non è che c'è Un pezzo unico Sul tela Sono 100-150 Copie Uguali Comunque hanno un loro Valore È piacevole Comunque vedere Un quadro a casa E faccio un passo indietro Dico serigrafia Cazzo ma questo Ma questo è una tela Un prezzo unico Sono pazzi Cioè È bellissimo E comunque vale 4-5 sacchi Prezzata 45 euro Io lo prendo Compro anche una cosa Di Ikea usata Perché Camouflage Un po' di fumo negli occhi Esattamente Sai quale I cubi Quelli rossi Che poi tu metti Sempre i dischi dentro Non c'hanno un nome tecnico Una cosa che da Ikea Costa 3,99 Al mercatino 1,99 Sì Ma che non mi serviva Però Distraeva Quindi vado Alla cassa così Senti ho preso Sto coso di Ikea Che mi è utile Poi ho questo quadretto Così Ah vabbè Allora 46,90 euro Dico ok Perfetto Ciao grazie Così E l'ho messo subito Prontamente a casa Ma non è che È mia intenzione Speculare È mia intenzione Cioè Guardarlo Ammirarlo E per fortuna Salvarlo anche Da Mercatino Ma questa valutazione L'hai fatta tu No no Questa la fa Il mercato Ci sono dei siti Specializzati Con Per chi fa Quest'attività Io non la faccio Però Mi fa piacere Vedere che Però T'hanno confermato Che quello vale tanto Vabbè Tanto Cioè Per l'arte contemporanea Tanto Sono 50 sacchi Però diciamo che Comunque è un quadro Che per me vale tanto Perché Perché è proprio Cioè è bello Mi piace guardarlo E per di più C'è questa ecco Storia che Avevo raccontato Solo a pochi Intimi Ormai È di dominio pubblico Possiamo dire Bellissima Speriamo Che non arrivi mai Al proprietario Che ha detto Oh non hai capito Che ho venduto Al mercatino Ci ho fatto 40 No Ci ho fatto 22 Ah perché Metà Se la via La stecca Del mercatino Però posso anche Raccontarvi Il grande errore Beh Io ogni tanto Controllo ancora Se un giorno Vado Non ho un mercatino Di quelli A chiuso Un mercatino Di quelli Cioè Porta Portese È la patria Poi c'è Porta Portese Due Sì A Sì A Pagmio Togliatti Sì E poi c'è quelli Un po' di quartiere Io Per anni ho abitato A Via Valsavarance Quindi quello di Conca d'Oro Ponte delle Valle È uno di questi In questo caso Era quello della Tear Cioè Verso Talenti Che Prima era carino C'erano un sacco di vinili Di cose Vabbè Vado una mattina Con il motorino Perché devo andare a pranzo Da mio padre E vedo Da lontano Un quadro Su una tela Diciamo Spero Simile a Chagall Ma qual è il punto Che La tela era molto promettente Perché Era una misurazione Tipo 118,3 Per 79,7 E in realtà Quelle antiche Sono tutte tagliate a mano Dai pittori Per cui è un buon segno Da vicino Era simile a Chagall Ma molto da vicino Sembrava Sbagliato In realtà Io sbagliavo Perché se tu Prendi una tela Non quella Diciamo Che viene pubblicizzata Dal museo Per farti andare Alla mostra La tela Di un pittore Da lontano Ha una certa Potenza Da vicino Perde un po' Perché è chiaramente Concepita così Quindi da vicino Tutti i volti Di Chagall Eventualmente Di Chagall Così e tutto quanto Aveva un tratteggio A mano Per cui sembrava un po' Tipo Dei puntini Insomma Si perdeva un po' La figurazione Ma poi erano centinaia e centinaia Cioè un'opera molto completa Bellissima Siccome stavo in motonio Dico ma dove cazzo Me lo metto 118 centimetri Dico faccio Faccio Una scommessa Col destino Vado a pranzo Da mio padre Quando torno Se c'è ancora Lo prendo Se no lo lascio lì Torno Dopo il pranzo Vado da questo Che conoscevo Senti ma C'è ancora quel quadro La gente che vola Marito Sposa Violino Ah quello No no L'ho venduto Peccato Però mezz'ora fa Ah L'hai venduto Ma chi l'ha comprato Ma no Un professore Storie dell'arte Ah De storie dell'arte Ma lo conoscevi No È un amico di U Non si è mai visto Però È venuto così Eh L'ha voluto subito Io ho detto Porca puttana Cioè magari Non era quello Però nel dubbio Per sole 50 euro Mettevi le mani No ma poi L'avrei tenuto Lì a vita Però ecco Magari vi raccontavo Questa storia Dov'è lo Chagall Guarda Forse non è Chagall Però c'era un salotto Però guardo così Perché comunque Secondo me O era Una copia Molto molto Vicina O addirittura C'è il rischio Che fosse originale Ma questo perché Perché se te vuoi copiare Un quadro di Chagall Prendi il soggetto Più famoso E copi quello Non prendi un soggetto Che non Particamente complicato Da riprodurre Perché aveva circa Una figurazione Di 100 personaggi Messi in questa In questa tela Molto così Corale E quindi anche Molto faticosa E lunga Tanda fa Quindi se vuoi fare Una truffetta A qualcuno Magari Fai qualcosa Di più sempre Come Schifano Che hai fatto La Coca-Cola Quando vuoi La Coca-Cola Ah ok La Palma Ok Non ti metti a fare Delle cose Di Schifano Magari molto meno note Perché Sarebbe anche più complicato Andarla a piazzare Vedi quindi Mi sei anche No per dire Una cosa figa Una cosa invece Una grande sconfitta Però anzi Pensavo una grande sconfitta Che tu poi Avessi pagato Tanto qualcosa Che poi non era Invece è solo che C'è una parte di te Sospetta Che qualcuno Abbia messo le mani No ma Ma l'importante È che qualcuno L'abbia salvato E detto questo Stavo in motorino Se stavo in macchia Sicuramente Lo prendevo Lo mettevo in macchina E poi chissà Però vabbè Insomma Però questo mi ha insegnato Ogni volta che ho un dubbio Che c'è un quadro Che mi piace una cosa Nel dubbio lo prendo Poi dopo ci ragiono dopo Vedi bello Quindi vai per quadri Quadri sì Ogni tanto vai per quadri Cioè vai per dischi Però guardi pure quadri Non c'è più spazio Perché la casa è quella Che vi ho detto Non so 60 So 70 Ma siamo lì E ce l'ho su Due a volte tre fila I quadri E poi Questo perché mio zio Me l'ha insegnato Una volta da piccolo Vado in bagno Da mio zio Cioè Vado a fare la cacca Da ragazzina E vedo Dei quadri in bagno Con la cornice bella Le tele Dice A casa non ce l'ho a questi Dico zio Ma perché hai messo i quadri in bagno C'ho più spazio Allora sono da mamma Ha fatto mamma Zio Che era il fratello Zio ha messo i quadri in bagno Eh non si fa I quadri in bagno No È brutto Pure per l'artista È brutto Invece ho detto Io ho detto Vabbè ma perché è brutto Cioè Magari stanno al mercatino A fare la muffa Cioè meglio in bagno Che quindi Ho messo pure qualcosina In bagno Poi metterlo Diciamo a tema Però insomma Non so se È il caso Eh infatti Che quadri c'erano Cioè Qual è il tema Bagno Io Gli voglio bene Però una sorta di contrapasso Ho messo uno di mio zio Ah ok No perché C'è Io c'ero un botto Cioè Essendo chiaramente nipote C'erano parecchie Anche dei genitori Così E quindi Non Mi piace però Averli attorno Perché mi dà Idea di famiglia Come per esempio Anche i dischi Alcuni sono molto rovinati Ma sono quelli Che ascoltava Mio padre Oppure mio fratello In camera Sul Torrens E quindi Mi piace proprio quello Anche rovinato Perché pure Quella rigata È frutto di Una giornata Insomma Passata assieme E che E che rappresenta Quel quadro Di tuo zio Che c'è No Quel quadro Rappresenta Lui Che è un mondo Che è un mondo Un momento Che volevo provare Sempre a livello Molto legato Alla parola Quindi Canzoni Rime O comunque Prosa Nel caso di Libri Ma sempre Diciamo Con l'utilizzo Ecco Della parola Però No mi dispiace Perché ti vedo No 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 Magari Era bello Da mettere in bagno Che ne so Sì No beh Sicuramente L'avevi messo in bagno Uno mio Con piacere Sì sì Ma invece No Questo è Scenografico Posso No Bevi 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 Ma quindi Tu Cioè Cioè Quadri O ti piace Anche arte Arte pittorica Ma anche Tipo fumetti Oppure Ah Ecco Scusa Perché un attimo È l'età Vai Prima vi ho detto Tutti pensano Che io faccio Cioè Molti pensano Che io faccio Il surfista Mai fatto in vita mia Massimo rispetto Per tutti i surfisti E le surfiste Però Al di là Della canzone E del video Però chiaramente Era molto ironico Perché il mio fisico Non consentiva Di cavalcare l'onda Più di tanto Non ho mai fatto Il surfista L'altra cosa Che tutti pensano Che O comunque molti Che io sia Un esperto Di fumetti Perché ne parlavo Qualche giorno fa Con Michele Caparezza Che lui era ospite All'ARF Esatto Esattamente E c'ero anche io Per cui sono stato Piacevolmente coinvolto Sul palco E tutti Ah ma tu che stai Io so poco Dei fumetti Cioè il mio rapporto Con i fumetti È per lo più Legato alle mie funzioni primarie Da quando sono piccolo Perché tipo Nonna Non c'ho fame Dai Ti leggo Topolino E mangia E mangiavo Nonna Non c'ho sonno Dai Ti leggi Topolino Che ti addormenti Nonna Non riesco a fare la cacca Ti leggi Topolino E fai pure quella Quindi Topolino Era legato Alle mie attività Basilari Poi dopo Crescendo Chiaramente ho letto Anche altro Ma andavo sempre Un po' a contrasto Con mio fratello Che avendo dieci anni in più Lui leggeva Alan Ford Io Topolino Lui pazienza Io sempre Topolino Poi dopo lui Magari che ne so Frigider Rank Xerox Che comunque era figo Io lo leggevo di nascosto E io stavo magari Con la Marvel Quindi sempre un po' Più istituzionale Rispetto magari Le letture di fumetti Che portava lui a casa Quindi un po' Un quadro diciamo sì Un quadro di massima ce l'ho Però non sono così Come alcuni conosco Tipo Simone Il danno del colle Che è proprio Cioè Espertissimo Posso dire Personaggio preferito Di Topolino Io Allora Non so perché Cioè io Paperino Per me Paperino Era il top Eh beh certo Giusto Perché qualcuno Ancora più estremo Che ne so Dice no Gastone Che è vincente No Cioè troppo vincente Gastone Paperino è il giusto mix Cioè non è che Ha le sue sfortune Però alla fine La gente gli vuole bene Comunque è un affettuoso Cioè nipotini Cioè mi piace Paperino Senti Paperone dei Paperoni Un po' me lo copri? L'hai mai letta la saga Di Paperone dei Paperoni Se mi piace lui il personaggio Quella di Don Rosa Con tutta la storia Di Paperone No no chiedevo Allora no Paperone quindi non ti No non mi Cioè Non c'ho l'antipatia Che dovrebbe suscitare Il personaggio Perché alla fine Risulta un po' vittima Di se stesso No? Su un lungo periodo Diciamo Cioè un po' Arido Semina poco E di conseguenza Riceve poco Forse anche di più Di quanto non meriterebbe Però di proprio Topolino Non mi è mai piaciuto Sempre legato La parata del 2 giugno No Topolino no Topolino Ah io proprio Cioè prendevo E saltavo Solo quando Era l'unico fumetto Dopo 5 ore Al parrucchiere Con mia madre Mi hanno letto tutto Due volte A quel punto vabbè Ma se no era subito Paperino E dintorni Topolino Quando era con Pippo Pippo Uomo del popolo No Pippo infatti Pippo spaccava Cioè riequilibrava un po' L'antipatia di Topolino O che risulta antipatico Era rispingente Topolino Topolino è noto Amico delle guardie No ma poi Dai è vero Letteralmente Amico delle guardie Cioè spia No quando sbaglia Ma è proprio così Ah sì sì Quasi molesto Arrogante Vince sempre No arrogante Perché poi peggio Il finto umile Invece almeno Quello arrogante È dichiaratamente arrogante No capito No è vero Siamo d'accordo Apro una parentesi Una cosa che ho rivisto Di recente Che praticamente Nel famoso Fomento di Don Rosa Tu bevi Una cosa che Se non lo conosci Cioè praticamente C'è tutta la La genealogia La dinastia La dinastia E comunque Solo Paperino È nipote di Paperone E Paperino pure Paperino 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 è il figlio Della sorella Paperino Paperino È il figlio Della sorella Però tipo Castone Non è parente No Sì è parente Alla lontà Perché è il cugino Di Paperino Castone Sì però È lato cut Come si chiama Lato nonna Pavera Lato nonna Pavera Capito Che sono parenti acquisiti È nipote di nonna Pavera Ma non di Paperone E questo Io pensavo Invece che era nipote Invece no 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 Poi sai una cosa Che proprio io Sempre Quelle cose tipo Inventate posticce Cioè tipo Paperino Supereroe Paperinic Sì Io su queste cose Sono proprio Reazionario Ah sì Io sono d'accordo Come nella cucina Cioè noi Mi puoi fare la carbonara Cioè no Sono dei principi Base della vita Perché non me li puoi cambiare Perché mi sento male Mi levi le basi Le colonne Cioè Paperini E basta Che gli fa Paperinic Tutte le cose Modificate Sempre Perché è meraviglioso Io c'ho un'altra Io c'ho un'altra Per me è un altro No voglio dire un'altra cosa Che sembra come la sua Ma sicuramente non lo è Cioè ma perché In una serie Netflix recente La regina d'Inghilterra È afroamericana Sì Perché Non lo capisco Questo non lo so Non l'ho vista Oppure quelle cose Dove c'è la Non so Film su La prima guerra mondiale Colonna sonora Pezzo trap Ma perché Non si può sentire Cioè è sbagliato Come se mettessi Agli antichi romani Rolex Cioè Non è possibile No certo Ma io su questo Invece Ci sto Cioè Mi va bene Dal romano Con Rolex Lui è strano Su alcune cose Reazione Su altre Ma poi su Paperinic Scusate Ti spiego perché A me Paperinic Mi piace come entità Però Cioè Paperino Parla in quel modo là Se pure se mette una maschera Lo riconosci che è Paperino Cioè Ma sai quanti parlano così A Paperino No solo lui Perché tutti parlano normale Cioè è lui che ha un difetto Le pronunce Parla come Una paper È chiaro che è lui Cioè Chi sarà mai questo Ma che vuol dire Che parla così Ma pure Clark Kent e Superman Se te ne togli gli occhiali Che faccio Ma chi sei Vieni da Krypton No sei Stefano No Clark Kent e Superman Perché poi se tu vedi Clark Kent È tutto ingobbito Cioè se metti gli occhiali Io vorrei Io lo dico io Io se mi tolgo gli occhiali La gente non mi riconosce È vero Pazzesco È vero Pazzesco È uguale Clark Kent Al contrario Cioè sì Tipo Invece Paperinic Ma anche Super Pippo C'è anche il nome Cioè Super Pippo Manco c'ha la maschera Però Super Pippo Si discosta pochissimo Cioè Super Pippo È solo Pippo forte Cioè è stupido Imbranato Cioè fa peggio di prima È stupendo Super Pippo Personaggio totale Ma perché tu Che supereroe O che personaggio Del fumetto Saresti Se potessi esserlo In una tavola Domani mattina È Goku Certo Chiaro Però quelli giapponesi Sono facili No no Teniamoci su Disney No Paperinic Non pure a me ne piace Però Paperinic È lui Posso dire una cosa Prima hai nominato La Marvel Cioè Sono storie diverse Cioè L'uomo ragno Da un certo punto in poi C'era l'uomo ragno La storia Di un certo tipo Poi c'era l'uomo ragno Che arriva a Carnegie Sullo stesso numero Sono due storie diverse Però È lo stesso personaggio Che ha avventure diverse Paperino Che è Paperino E basta E Paperino E basta Paperino E Paperinic Ma poi Scusa Paperino Perde contro Chip e Chop Contro due scogliattoli Cioè sfigatissimo Non puoi combattere contro gli alieni Capito Quella è PK Che è ancora più Ancora più bello Un capolavoro No no Per carità è figo Però Cioè Quello è il problema mio Non puoi essere sfigatissimo Contro C'è una scopa Che ti sbatte in faccia E poi salvi il mondo degli alieni Cioè È incoerente Questo è il mio problema Poi è bello Sono diverse Tempoline Della stessa Dello stesso Multiverso Se posso cercare Di dare un senso Alle emozioni Ah tu dici che in un multiverso C'è un Paperino E in un altro multiverso Cioè sono tutti C'è Paperino Che è Paperino C'è Paperino Che è Paperinic C'è Paperino Che è PK E sono questo Boh non mi convince Va bene È scienza Sto parlando di scienza Non lo so Non lo so Va bene Sono Poi c'è anche Paperinica Tutti gli amici Sono loro Tutti super Pippo Cioè tutti si conoscono Tutti supereroi Cioè è strano no Come se io e te Lui siamo supereroi Cioè Non loro che non conosciamo Cioè capito Strano no Cioè No però No perché È un fumetto Dice non deve essere Proprio un film Neorealista Che dove combacia tutto Non è che a un certo punto Ci si può permettere Di Si può osare Con la fantasia Cioè devi fare te Un po' di lavoro Va bene Sono pure Paperi Pure quello è strano Non so come Fino a lì tutto bene Fino a lì sì Fino a lì capito E poi nel momento In cui diventa uno supereroi Ah Alto Secondo me Vale tutto Vabbè Vabbè Ma abbiamo litigato Mi spiace No no Sono contentissimo Sono contentissimo Di aver litigato Non pensavo di Alimentare questo clima Così di tensione Tranne Topolino Che appunto Finto umile Però l'unico Che non diventa supereroe E fa il suo lavoro Ah tu dici che in realtà Alla fine Il più umile Il vero umile è lui Alla fine sì Working class hero Topolino Dice lui Alla fine Dice lui Sì però No no tu no Io faccio come Il figlio di Sipra Ha detto papà Che Però Topolino C'ha pure sta cosa Alla Don Matteo Che la polizia Gli fa fare delle cose Che non dovrebbe fare Vai Topolino Prendilo tu Ammanettalo No non funziona Che poi arriva Sei un eccellente cittadino Ammanettato uno Non lo puoi Non funziona così La giustizia Grazie Topolino No Si fermi Poi pure la Topolinia Invece Paperopoli 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 straordinaria Città bellissima Non c'è Tacco belle però Non c'è Tacco belle Chissà Secondo me però Forse Dominos Dominos Sicuro c'è la pizza Che si chiamerà Tipo Paperos Come l'avranno richiamata Si si Vabbè Comunque Sono molto contento Abbiamo fatto tutta questa È importante Molte cose Sono state sollevate Delle questioni Importanti Per l'umanità Per l'umanità Io vorrei sollevare però Un'altra questione C'è una domanda Che io e Stefano Facciamo Ah questa è Su questa eravete d'accordo Su questa domanda Che sta per arrivare Si Non lo so ancora La domanda Quando viene un ospite Che ha una carriera Creativa Artistica Nel tuo caso musicale E che ha cominciato A fare Questo lavoro Un po' di anni fa Noi ci viene da chiedere Una domanda banale Ma che a noi interessa molto Visto che poi il percorso Di ognuno È sempre diverso La domanda che facciamo è Come hai iniziato E soprattutto Com'era Il mondo In cui Hai cominciato A fare musica E com'era Com'è stato il percorso E ti ha portato A rendere la musica Un lavoro Dunque Dobbiamo Vedo che qualcuno È indubbiamente Più giovane Qualcuno abbandona La sala A questa domanda Sì sì Voleva sapere solo Topolino o Paperino E poi Me ne vado No Praticamente Dobbiamo già immaginare In un mondo Che sembra facile a dirsi Ma non è facile Cioè dove non c'è Internet Non ci sono le mail Non c'è Whatsapp Non c'è Google Non c'è niente Per cui Come scopri Una cosa Tramite il passaparola Devi mettere in moto Fisicamente Questa domanda Portando te stesso In una piazza In una via Da qualche parte E trovare qualcuno Che per un motivo Magari estetico Un cappellino Storto Un pantalone largo Una scarpa Da basket Ti può far pensare Che possa essere Anche lui vicino Ai tuoi gusti Poi porre la domanda E dire E sentire un tipo Ma di che cazzo Stai a parlare Oppure Ah pure te Quindi quando Arrivò questa cosa Del rap In Italia Io facevo il DJ A scuola Al Giulo Cesare Facevo Un botto Di feste private Di vari ragazzi Del Giulio Anche più grandi Facevo Dei mix tape Delle cose mixate Che andavano in onda Su Radio Centrosuono Che allora Non era dedicato Al calcio Ma invece Era dedicato Molto alla musica Black Ma ogni weekend Poi Tutta la notte Era tutta una selezione Mixata A base di La parte iniziale Rap Regge Poi dopo House E poi Tecno Fino alle 6 del mattino E tutti noi Cioè chi aveva la macchina Metteva quella frequenza Là A 101.3 Si ricordo bene E si ascoltava A tutto volume Questa selezione mixata Cioè se non c'avevi i soldi Che avevi finiti Ma andavi a qualche discoteca Ti mettevi con 3-4 macchine Tutti su 101.3 Tutti con volume a palla Se stava lì Birrette E quant'altro E E oltre a questo In questa radio Io facevo anche Perché mi avevano chiesto Dei jingle Tipo Per la radio Però in chiave rap Ora anche qua Sembra strano Perché adesso Il rap in italiano È normale Però allora Era percepito come C'è il rap Lo fanno in America Sono ragazzi afroamericani Io lo ascolto Lo posso pure Mixare Ma mi sa che Non lo posso fare Cioè è un linguaggio Che non mi appartiene Insomma C'erano giusti Beastie Boys Che erano Tei ragazzi bianchi Che lo facevano Però ho detto Abbia un jingle Cioè alla fine 20 secondi E quindi Ho fatto questo jingle Che passava Tipo 60 volte al giorno Perché la gente Voleva risentire il jingle Allora mi hanno chiesto un altro Un altro Un altro Arrivato al quarto jingle Ho detto 20 secondi Per quattro Posso quasi fare Una canzone Cioè banalmente Facendo la somma E Nel frattempo A scuola Andavo bene Come sempre Meno Una materia Cioè mi hanno sempre Promosso anche bene Però mi hanno rimandato Un solo anno In chimica e biologia Perché io dicevo Perché al liceo classico Hanno messo chimica e biologia Cioè Qual è quella mente Diabolica e perversa Che non si lega Col resto E c'era questa professoressa Filomena Marturano La salutiamo Che diceva Zanello A te ti rimando Dico ma Perché Comunque Più o meno Me la so cavata No Perché tu hai voti alti In tutte le materie Nella mia no Quindi tu sei intelligente Ma non ti applichi Per questo devo punirti Lui è un cretino Quindi è inutile Che lo punisco Gli do il 6 Te ti rimanderò E dicevo Ma perché Cioè io non è che Cioè sarò anche Come dice lei Intelligente In altre materie Ma su questo Sono veramente stupido Non ci capisco un cazzo Non Prima è chimica Proprio Cioè Breaking Bad Non era nelle Nelle mie corde E quindi come entrava lei Io dal secondo banco Traghettavo All'ultimo banco Mi mettevo là Con la penna E il quaderno Perché appunto Non c'era lo smartphone Non c'era il computer E pensavo A delle rime Da scrivere E E quindi Cominciavo a scrivere I primi testi così Poi nel frattempo Roma si muoveva Perché Dopo gli anni Del Cioè tutto intorno a noi C'era solo il pop Italiano di 90 Quello che proprio Aveva rotto le palle A tutti Con i testi d'amore Proprio Melenzi I pezzi vecchi Della Pausini Ma non adesso Uno sembra che è avanguardia Quello che fa La Pausini Quello che faceva allora E tutti dicono Che palle Ma c'è un testo Che racconta un po' De quello che facciamo Davvero noi Nella vita Tutti i giorni E quindi Cioè l'idea Di mettere appunto In questi testi Vita E anche linguaggio reale Quindi molto più sporco Parolacce Cose Slang Tutte cose che ora Vengono usate Anche In programmi televisivi Nazionali Abitualmente fatti Anche a Milano Cioè Spaccazzi Magnanna Che poi per il rap Si prestava Un po' Come il napoletano Con tutte queste Queste tronche E c'erano un po' Di spazi alternativi Che davano Che permettevano appunto Di fare delle piccole Esibizioni Al microfono Ma dell'area Antagonista Quindi Forte Prenestino Tutta l'area Dei centri sociali Dove io Più che altro Ero andato ogni tanto Perché mio fratello Che appunto Aveva 10 anni in più Era stato Magari dagli occupanti Di alcuni Di questi luoghi Che erano Politicamente Molto più Attento di me Io invece Ho trovato Questa dimensione creativa Quindi mi facevo andare là A ascoltare Le canzoni Che mettevano Che so Lampadred Gli Wallop Ipaua A sentire I primi MC Che c'erano Che so Assalti frontali A K47 Poi a scuola con me C'erano un po' Alcuni amici Che erano un bel blocco I Villata Post E Brusco Che appunto Vanno nel reggae Quindi ogni tanto Arrivava qualcuno di loro Ah bella donna Senti che abbiamo fatto Sta canzone Cioè mazza figa Ma voi te registrate Eh noi abbiamo Quello studiolo Oppure Che ne so Allo Zenicata Che stava a nuovo salario Che è un altro studio Oppure Ci siamo affittati in box A Via Tigre A Via di Libia Facciamo le prove lì Cazzo mazza figo Cioè perché fate proprio Cioè non solo ascoltate Della musica nuova Ma la fate pure Che è ancora più figo Quindi ho cominciato A pensare Di poter fare delle canzoni Il problema è che Non essendoci computer Per fare una strumentale Che adesso si fa In cinque minuti Era un problema Cioè serviva uno studio Però uno studio Oltre alle capacità Aveva un costo economico Di non so 50 milioni di lire Cioè comunque Una cosa di colpo Servivano 50 mila euro Per fare una traduzione Così un po' veloce Quindi non era facile Quindi si usavano Le strumentali americane Cioè compravi Di dischi americani C'era sul mix La strumentale Te la ascoltavi E scrivevi su quella E questo lo facevo io E anche altri Perché poi Fuori scuola avevo conosciuto Simone e Massimiliano Ovvero Danno e Masidio I Colle del Fomento Quindi abbiamo fatto Un po' comitiva Quindi ogni sabato O pomeriggio Andavamo a casa di Simone Mettevamo Io portavo i dischi miei Simone i suoi Io il mix Lui gira i dischi Mettevamo insieme Tutti questi pezzi E poi ognuno faceva sentire All'altro al microfono La strofa che aveva scritto E c'era anche questa cosa Oh Sta strumentale Mi raccomando Questa è usata io Questa è mia Mia Public Enemy Cioè però Diciamo Tra noi pochi C'è una sorta di prelazione Su quella strumentale Per eventuali ipotetici live Che ancora non Non facevamo E quindi ho cominciato A registrare le prime Le prime demo C'avevo a casa Un registratore A quattro tracce A cassetta Che poi te Era pieno di fruscio Perché registravi due tracce Poi le spostavi su quell'altra Quindi il fruscio Se raddoppiava Facevi la voce Rispostavi Si quadruplicava Penta era tutto fruscio E della musica E al forte Per la prima volta Andai una sera A questa serata Che c'era Due volte Cioè una volta Ogni due settimane Si chiama Tortuga E ce l'ha scritto Microfoni aperti Ma io non è che sapevo Che anno Stiamo parlando Ah ti sto a parlare Periodo post E roba del 91 Cioè 90-91 E a un certo punto Lampa thread Cioè il DJ di Wallop Con i thread Che poi veniva dal punk E quant'altro Invece là Metteva un botto Cioè ormai Era nella dimensione Sua regge E diceva Per chi vuole Cantare Qua c'è Sa il microfono Poi non capivo Ancora bene Però vedo Che va a cantare Roberto Che si chiama King Degli AK47 Che era un MC Fortissimo Allora Faceva tutti In extra beat Super veloce C'era una strofa Su Silvia Baraldini Che era una cosa Pazzesca Su una strumentale Prende e fa Sa strofa I miei amici Di scuola Sapendo che io Un po' Rappavo Facevo i jingle Comincio a dire Zano Zano Perché io non mi chavo Ancora Piotte Mi chavo Il soprannome Era discutibile Zano Che è l'abbreviativo Di Zanello Perché troppo Faticoso Di Zanello E T Che era Tommaso puntato Zano T Faceva un po' Anni 80 Giovanotti Un po' Da DJ funzionava Lì per lì Ancora Lo tolleravo Poi dopo ho detto Cazzo Non siamo più Sentisti E fa Zano Zano Sai quando c'è la comitiva Dei 20 maschi Testosterone a 2000 Per cui Come uno rimorchia Messe in mezzo Cioè Che li ami tutti E poi li Li odi pure Vabbè Però in quel caso La messa in mezzo Fu positiva Perché io fui Portato a forza Verso il microfono Con l'ampadina Faceva Ma che vuoi cantare pure te Lo dico loro Quindi prendo il microfono E canto questo brano Ah sai che anno era Il 91 Perché io canto Un brano che si chiamava Los Angeles 3 marzo 91 Che era Raccontava i fatti Di Rodney King Che era Un afroamericano Picchiato brutalmente Dalla polizia Di Los Angeles Che poi Alcune sono mosse Successive E quindi se l'ho scritto Non so Il 4-5 marzo L'avrò cantato Il 4-5 aprile Cioè per dire una cosa Abbastanza applausibile Vabbè canto questo brano C'erano comunque Un bel po' di persone Cioè tutto il Per chi ci ha andato Il corridoio lungo Del forte penestino Pieno di gente Finisco l'astrofo C'è applausone Io dico cazzo Se può fare Cioè se può fare Una canzone in italiano Intera pure con contenuto Allora Vado avanti E quindi a mano a mano Seminavo E ricevevo indietro Energia positiva Seminavo E ricevo energia positiva E L'unica cosa Che non facevo originale È che Lo facevo un po' Sulla scia delle posse Quindi la cosa Che andava allora Era Base un po' veloce Aggressiva E testo impegnato Cioè i testi ironici Non erano Non dico visti male Però non erano Visti di buon occhio Cioè il rap Doveva essere Una cosa un po' Stile sempre Come diceva Chuck D La CNN del ghetto Quindi dire sempre E raccontare Dei fatti Politici Sociali Impegnati A me sta cosa Mi piaceva Però c'era un lato mio Un po' più Party Cacerone Che era un po' Castrato Che era quello Per cui magari Avevo cominciato A fare il DJ A un certo punto Poi parlando con Simone Massimiliano Le demo le cose Loro conoscono Ice One Ice One Faceva già rap Da prima Cioè da molto tempo Io anche Lo conoscevo Perché avevo letto Un'intervista lunghissima Con tutto il suo faccione Così E la sua Grinzio Repubblica Andava sempre Lui faceva break dance Faceva le basi Faceva i graffiti Faceva rap in inglese Il gruppo si chiama Power MCs C'era lui Giulie P Che era la moglie E poi Duke Montana Che è il papà di Sick Luke In inglese Erano forti forti Ma già gente che faceva i dischi Per cui per me era Vabbè cazzo Quelli fanno i dischi Ice One Conosce i ragazzi Del colle Gli piacciono E decino di collaborare Poi Simone e Massi Portano anche la mia demo Parco delle valli posse Perché Io abitavo a Conca d'Oro E c'era questo Pratone Che era famoso Allora per Per un solo motivo Il circo Cioè praticamente Non c'era niente Ogni anno In mezzo alla fanga Di dicembre Novembre-dicembre Mettevano il circo Orfei Togni e compagnia E quindi puntualmente Io come tutti i bambini Venivo portando al circo Poi a un certo punto Una tale società Chiamata Erev Un acronimo di Edilizia Qualcosa Invece la solita supercazzola Facciamo solo Otto palazzine In cambio Vi daremo un prestigioso parco Basta che firmate Come quartiere Perché Dobbiamo chiedere La deroga Sul piano edilizio Che prevede che quella Sia una zona verde Invece noi dobbiamo Costruire Ma a quel punto Non ci è cascato più Nessuno nel 90 Perché già i palazzinari Di Roma avevano stuprato La città come non mai Come basta Girare qua attorno Cioè così E E quindi Cioè pochi firmavano Cioè pochi credevano A questo cambio merce Ti faccio costruire E me dai il verde Perché Ti faccio costruire Non me dai il verde Aumenta il traffico Non c'è servizi Già abitiamo al di là Del ponte delle valli Che Ora è normale Ma quando io andavo a scuola Ma te dove sei? Eh Con Cadoro Ah te sei al di là del ponte Porino Sfortunato Così Io dicevo No però c'ho mia nonna Piazza Regina Ah Vabbè Allora dai un po' meglio Quindi era un po' Veramente Cioè il ponte delle valli Era la divisione Tra serie A E serie B E praticamente Niente Arriva anche questa Io quindi ho fatto questa canzone Diciamo Parco delle valli poste Perché era contro l'ere Perché voleva costruire Io invece chiedevo Di avere Un parco Come c'era Villata Al di là del ponte Dove andare a Bere Fumare Cantare Fare il cazzo Che c'è pare C'era proprio così Delle rime Abbastanza semplici Però con uno stile Diciamo Spregiudicato E questa cosa Piacqua a Seb Dice Allora te Cioè non sei tecnico Come magari Simone Che era veramente Sempre stato Un fenomeno Pazzesco A rappare Però c'è Sta forza Comunicativa Magari sei più rozzo Nelle rime Però arrivi comunque Con questo impatto Un po' selvaggio Quindi era un po' sempre Il matto che arriva sul palco Ci ho fatto degli spettacoli Che se ci ripenso Dico Boh Ma non so perché la gente Mi dava sto spazio Perché Ricordo uno di Franky Energy Franky ci chiede di aprire Al suo Primo grande show a Roma Con tipo 5.000 persone Era a Tor di Quinto Ma è come se fosse un po' Rocchi Romao C'è uno spazio con migliaia di persone E veniva da successi impegnati Quindi anche il pubblico che aveva Era un po' Insomma Così Attento E quindi era Franky e prima noi Della Taverna Ottavo Colle Roma Che era questa crew Che avevamo fondato Ice One Colle del Fomento E io Insieme a Giudipi e DJ Fella Dove lo scopo era Portiamo il rap Il romano Proprio con lo slang romano Sulla bocca dei tutti Dobbiamo mettere Roma Cioè Medaglia d'oro Se siamo tutti il cazzo Che è sempre Milano Bologna L'altra città Dobbiamo mettere Roma Quindi è proprio lo scopo Così Che so che a lui Queste cose piacciono Un po' così Stefano Sì Il territorio Sì Prima si è capito Insomma Con quel passaggio E quindi abbiamo Esasperato Sta cosa del romano Quindi campionare Gli stornelli Citare Gabriella Ferri Screcciare Gabriella Ferri Col Varamici Mettere le rime Con tutte le tronche Con le cose In romano Chiaramente era un approccio Un po' più Forse troppo Come aggettivo Insomma Intellettuale Cioè noi facciamo il classico Poi dopo l'università Però ci piaceva Sta dimensione Più hardcore E poi pensavamo Che era anche un metodo Per arrivare Più velocemente Al pubblico In effetti È stato anche così Perché il mio benzinaio Di Conca d'Oro Dove ogni mattina Mi fermavo In perenne ritardo Verso scuola O università Per fare benzina Un po' mi coglionava Diceva Ma parli sempre De sto rap Ma intanto Non se sente Ma che fate Non ve conosco Come ti chiami Cioè l'uomo d'arte Chi siete Quello Non ve conosco Invece una mattina Arrivo col motorino E quello mi fa Oh spingo io La roba Che Ah dico Ah Ah Ti piace Mi fa Oh ma da paura Sta roba Perché proprio La sento Proprio mia Da ma grande Cioè a quel punto Era capito Un po' di tardi Era arrivato Era arrivato Era arrivato Anche a lui Però era Buon segno E E Praticamente Cominciamo a portare Sto rap Romano In giro Per Per tutta Italia Nome Taverna Ottavo Colle Perché l'idea era Sono sette colli C'è un ottavo colli Immaginario Che è quello Dell'hip hop Romano Dove stiamo Tutti noi Della Taverna E tutto quanto Allora Frenchi Che è sempre stato Insomma Attento A Le varie scene Delle città E Roma in particolare Perché insomma È stato Molto legato A Roma Ha detto Mi piacerebbe Se aprite voi Il mio concerto A Roma Voi da Per l'Ottavo Colle Quindi ero io Colle E ai suoi Nei piatti E io Aprivo Prima di tutti Quindi è Tutto un pubblico Un po' precisetto Così Che non sa Nulla Dell'hip hop Un po' Caciarone Fumettistico Che facevamo noi Che era ancora molto Di nicchia Arrivo io E faccio così Che ho venuto in mezzo Regà c'è state Taglie Porco Boom Bestemmione Gente di Mary Van Manson C'è che mi è ancora uscito Sparo due pezzi Finisco la voce Perché l'urlo Ve l'ho fatto Adesso insomma Lo so usare anche meglio La voce E poi è durato tipo 20 secondi Un minuto e mezzo E poi esco Alla grande così E rientro poi Per fare due pezzi Che avevo col Colle Quindi Era uno squilibrato Cioè anche Un famoso concerto Che sta anche nel Docu Film Zero Con i sangue misto Io arrivo sul palco E ho la parrucca Che dovrei dire Maradona Ma sembrava più Palo Roberto Cotechigno Col Baro Vitali E faccio tutto Lo sciocco Con la parrucca Ma perché Non si capisce Urlo sempre così Un paio di situazioni Sempre così Borderline Nel documentario Si vede proprio Ah si vede Veniamo da Roma Porco Ah si E E così Quindi Cioè lo stile Era molto più grezzo Però arrivava questa botta Che manco io so dirti Penso al fatto Che diciamo Avevo un bellissimo rapporto Con i miei genitori Il mio padre Il mio padre è più tipo A te che ti piace fare Nella vita Il cantante Ah bravo bravo L'avvocato Bravo bravo Il calciatore Bravo bravo Cioè Tutto bravo Basta che sei contento A me va bene Quindi Per me chapeau Numero uno Mio padre Mia madre Che ti piace fare Il cantante Rischio Calciatore Non c'è il fisico Vabbè Lettere e filosofia Eh ma già l'ha fatta Tu fratello Poi non si lavora Vabbè Giurisprudenza Ah bellissima Giurisprudenza Bellissima Sì sì ok E quindi era proprio Era più forte di lei Non riusciva A essere imparziale E quindi E poi era Lei molto tosta Di carattere Io pure Perché me dovevo difendere Chiaramente Ma lei Partitualmente tosta E quindi In questo essere Un po' compresso A casa Rispetto alla musica Poi io ho Queste esplosioni Sul palco Per cui Chi Non mi conosceva bene Dirà Tommaso non è uno Cioè lui È il gemello Cioè non il gemello In quanto cantante Ma il gemello Di Tommaso cantante Un po' come Paperino Paperinic Guarda che Incredibilmente Giusto Quello che tu dici Perché c'era La persona reale Che era Tommaso Zanello Studente di giurisprudenza Con gli occhialetti Rotondi Alla John Lennon Da cui Tanto me lo chiederete Tra due minuti Perché ti chiamai Piotta L'occhiale rotondo Come le cento lire Di allora Inventata da Massimiliano del Colle Oh Piotta Perché Come le cento lire Che c'è in faccia Così Perfetto Piotta Quindi in acqua così Semplice ma Efficace E Praticamente Poi c'era Piotta Che a certo punto Io stavo Seduto lì Parlavo con te Ma tu domani No domani C'ho la filosofia del diritto Con Romano Quello è tosto Speriamo bene Ah scusa Devo andare a fare una cosa Clark Kent Uscivo qua Dai Vieni Bestemmioni cose Poi Tornavo là E mi risiedevo Come è andata Dici ma Tipo lui Quando si è levato gli occhiali Capito Cioè io pensavo di Invece in realtà Era palese Però era veramente Questo accadeva spesso Al circo degli artisti Quello vecchio vecchio Che non è Quello vecchio A Piazza del Lodi Ma è quello vecchissimo Cioè che Che era A Piazza del Lodi Ma quello ancora più vecchio Che era Via la Marmora Dove ora c'è L'università All'Esquilino Proprio alle spalle Di Piazza Vittorio Non lo sapevo Qui erano degli ex Locali Dismessiti Alla centrale Del Latte di Roma Che diedero Ad utilizzo così Per Aggregazione sociale Tu entravi C'erano due sale A destra Diciamo più Biteria Col pianoforte Così A sinistra Tutto invece Locale Per DJ set Live Anche importanti Perché so Abbiamo un sacco Di artisti internazionali Oltre al fatto Che hanno visto Che c'era movimento E ci hanno detto Vabbè Una volta A settimana Chiavi in mano Fate il cazzo Che volete Quindi andavamo Tutti là C'era il pub Di fuori Il Cirrosis Non si capiva Che era un pub Poteva pure Essere altro No Pazzesco il Cirrosis Con jukebox E' adattato Solo con pezzi Punk Arcore Rap Non c'era nulla Di commerciale E DJ set E poi una volta al mese Diciamo una sorta di serata Evento Con un artista internazionale Oppure tutti noi Singolarmente No Perché ognuno di noi Aveva che so Due canzoni Quattro canzoni Cioè è difficile Fare uno show completo Però messi tutti assieme C'era questa Arcore De Roma Staccato Io Colle Corveleno E E quanto pubblico C'era per queste serate Comunque Non so definire Underground Comunque sia Ma underground Ma comunque Il Circo di allora Era grande Più o meno Come questa sala Un po' Ancora più largo Diciamo così Quindi secondo me Levate le sedie Messe tutte le persone Cinquecento larghe Seicento Ammucchiate Sessanta Ammucchiate Seicento sessantase Ammucchiate Quindi più o meno Era quello Perché era una cosa Proprio diabolica Eversiva Per il mondo musicale Di allora Poi venivano già le tv La Rai Vaffanculo No Non parliamo Con te levate Così Sono un po' De scene di questo tipo Già con l'occhio Per il business Subito Alla Rai Non volevamo sapere Ma c'erano più loro Di noi Perché per noi Quasi tutti Come Cioè La cosa che andava di moda A livello di massa Era il pop Di Laura Quando non faceva Avanguardia Come adesso Laura di allora Quindi proprio pop Sì Smielato Con i testi E poi la Tecno Proprio Cassadritta 180 bpm Senza testo Che io all'inizio Ho anche un po' frequentato Per i primi anni 90 Quindi suono di Roma Quel mondo là Sì Che The Sound of Rome Era da paura Cioè Lory D Era già Uno che sperimentava Faceva ricerca Marco Passarani Anche Però mediamente Questi ravi All'inizio ci andavo Erano infrequentabili Cioè Levati i primi due repi Tipo la Notte del Male Che c'ero stato Erano solo Maschi C'erano dieci ragazzi Usati a mod di Esca Per far botte Tipo Venivano fatte a ballare No La gente guardava Perché sai guardare La donna mia No Guarda Guarda È l'unica donna Sì Inevitabile Cioè Io Giuriferente Sono Super Peace Così Penso Ci avrò fatto Fa botte Una volta In vita mia Ma In malo modo Cioè In malo modo Quelle cose Che fanno ride Capito Che tipo Il vecchio Che dà il pugno A casca E No Ho rischiato Di essere Accoltellato Di questi rave Perché La mia grande colpa È stata Che c'era Accende Eh no Scusa Non fumo Per stare Piò per culo No Non fumo Proprio Non fumavo Quindi E niente Questo Stava totalmente Fuori di testa Quindi C'era C'era Giorna Meloni Allora Si rave No Però era Infrequentabile Perché erano Tutti maschi No Di destra Cioè Non come lui Cioè Proprio Estremissima Destra Capito Appunto E quindi Ah Sì Sì E Invece Al contrario Nella musica Quella che più amavo Cioè L'amavo tutta Però insomma Che amavo di più Sicuramente Il rap Il reggae Era stupendo Cioè Relax Specialmente Il reggae Una birretta Una cannetta E c'erano Le donne Nel pubblico Non dico Sul palco Scena reggae C'erano abbastanza Scena rap Sempre purtroppo Un po' di meno E soprattutto Pochissime Quasi zero Quasi Sul palco Cioè Sta cosa Incredibile Ma Non lo so perché C'era La Pina Che è arrivata un po' dopo C'era Carrie D Che era bravissima Ma ha fatto qualche singolo Anche in un programma Della Dandini Che era Avanzi Però si Juli P Ma insomma C'è cinque Ecco Sì E scusa Questa scena Quindi stiamo All'inizio degli anni 90 Inizio fino Diciamo alla metà Fino alla metà degli anni 90 Perché poi te Hai fatto Come si vuol dire Cioè AirBot Nel 98 Sì Una data Diciamo che 90 93 Tutto per dire Un po' posse Si crea una scena Ma non succede Ancora nulla Di eclatante Una data Snodo È il 94 Cosa accade Il 94 Accade che Per la prima volta Noi da Roma Veniamo chiamati A suonare in tutta Italia Quindi tipo Io e il Collo Andiamo a suonare a Bologna A Torino Così E di queste date A un certo punto Andiamo A questa famosa gem Che si chiama Indelebile Che fanno a Rimini Dove c'era Un po' tutta Italia Cioè Dagli articoli Che erano già conosciuti Sottotono Dagli OTR Ai Sangue Misto Vabbè Che erano il gruppo Occulto Insomma Giustamente Bravissimi Di allora Ci siamo anche noi Però è la prima volta Dove noi ci mostriamo Diciamo A una platea Che rappresenta Un po' tutta Italia Con lo stile nostro E la dividiamo in due Il pubblico Perché prendiamo i microfoni Facciamo le nostre strofe E c'è quell'approccio romano Un po' d'austeria Per cui Battutona Situazione Bestemmia Si vuole Continua a dire Situazione 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 Questa cosa Spacca Cioè Metà Pubblico ci ama Tipo da paura Sono arrivati selvaggi Fichissimo Simone che dice Ma altro che Zulo So de Roma C'è ancora più E Io non sono Zulo So de Roma E Mentre Mentre l'altra metà Quella un po' più Straight age Così Eh no però No No dai No no Così è troppo Avete esagerato E invece noi esageriamo Così tanto Che quando cantiamo noi Saliamo sul palco Cominciamo tutti a saltare Il palco si spacca C'è speaker censo Di Napoli Che sta Diciamo in quella sera Sul palco con noi E cade giù Poi io Avevo questa rima Che avevo scritto E due giorni che non dormivo Perché guidavo io Abbiamo fatto Roma Bologna In live E poi Cioè Chi non ha mai dormito Perché ero super adrenalinico Da lì In macchina a Rimini E dobbiamo cercare Posto per dormire Andiamo a Rimini In campeggio Ci dicono tipo All'epoca 35 mila lire 35 mila lire Troppo Troppo Alla andiamo A Viserba Quanto costa? 25 No vabbè Troppo Troppo Cioè alla fine A Viserbella Che non so Ma non so Fa un esempio romano È come se te cominci Da Freggene E poi dici Dormito a Freggene No ho dormito a Non voglio dire una cosa Che ora qualcuno Oh io so De Ardia Non va bene Però diciamo Molto più giù Diciamo E Proviamo a montare la tenda Io Simone Massimiliano Io avevo fatto Zero campeggi Simone zero campeggi Massi tipo un campeggio Dopo circa un'ora Di disperazione Sotto il sole Ho detto Vabbè Io mi saluto il cazzo Io voglio morire così C'ho anche una foto Che nell'ultimo libro Ho pubblicato Maglietta Nervus Records Che era un'etichetta Di New York Che faceva roba figa Mantelluncino corto Ginocchio sbucciato Non so dove Forse sul palco Di Bologna Ma addormento Dopo due giorni di cazzate Dette da Fiano Romano In su Perché il superato Fiano Romano Era già Wee come andalo Andiamo a spaccare Perché avendo piaggiato poco C'era sta cosa Dove comincia Milano? Sicuramente dopo Fiano Allora dico Sarebbe figo fare Una sorta di sfuma Della romanità Quella più divertente Le battute Le citazioni Il cinema E' una sorta di supereroe Papetinic Della romanità Supercafone Per cui là entra Un terzo personaggio Cioè Tommaso Zanello L'avvocato Piotta Il rapper Supercafone E' proprio estremizzato Poi arriverà il giaguaro Il surfista E tutto il resto E quindi Scrivo due rima al volo Ma di una volgarità Imbarazzante Io non so se è il caso Vai vai Dille Cioè noi ce l'avevamo A morte col mainstream Quasi una lotta Proprio Perché Roma Milano no Cioè già questa cosa Insomma i soldi Che hai venduto E invece noi Di Roma E Bologna No Major merda TV merda Tutto merda Proprio super punk Come attitudine E c'era ancora Non era Rai In quegli anni Che per noi era visto Come Cioè Che c'è Non so Il male assoluto Hitler E non era Rai Cioè E quindi io dico Fa una rima proprio Divertente Però volgare E quindi io dico Dicevo Sono il pappone Di Non è la Rai Perché riferita Quella vulgata Popolare Per cui non è la Rai Accadevano cose Un po' così E poi dicevo Il nome della presentatrice Di allora Che insomma Tutti conosciamo Dicendo pure Ma il culo Quando me lo dai Cioè È una vulgarità A parte che Vabbè Oggi è impossibile dirla Cioè Non l'ho detta Ma è perché sto citando Il passato Ma anche allora Era abbastanza Pesantina Però questa cosa Creava proprio Tipo 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 il pull up Della scena regga No rimetti La rifalla Così E quindi Subito Supercafone diventa Cioè manco c'era la canzone C'era solo 8 rime Tra cui questa punchline Diventa già culto Poi da lì diventa Una canzone Dove io cito Solo Diciamo Quelli dell'ambito Hip Hop romano Sempre in chiave Un po' ironica Dicevo Rivolto a mia madre Non voglio Non voglio Fare l'avvocato Voglio fare il sommelier Oppure il DJ In un sexy privé Cose così E E già pure Questa funzione Finisce nel primo Album mio Che La prima uscita Ha una copertina Diversa da quella Diciamo che nota E più E io andavo a suonare In tutta Italia Quindi facevamo Già un bel po' di pubblico Cioè comunque Date dove facevamo Tranquillamente Insomma Mille persone E poi il mio produttore Di allora Che aveva Un negozio di dischi Famoso Che si chiama Goodie Music Che sta a Piazzale Flaminio Che poi era Ora è più piccolo il negozio Invece allora era enorme Dice Tommaso Il disco è andato bene Abbiamo venduto 10.000 copie Però dobbiamo provare A fare il botto Dobbiamo uscire Con il supercafone Io dico Gra Ma che cazzo Stai di Ma il supercafone È vecchia Tu hai È romano Non può essere Passata alle radio Non può funzionare Sta cosa Mi fa Guarda Io mi sento Che funziona Fammi a favore Tu lascia La strumentale simile Il ritornello simile E riscrive le strofe A tuo gusto Così le fai più attuali Allora io tipo Con Pidino Vado a casa E dico Vabbè Già che ci sto Magari levo La cosa più di nicchia Del rap Che conosco in pochi E metto La citazione di Verdone Metto Califano Metto tutte le cose Di Roma Che mi piacciono Poi la faccio In studio Studio Allora era Il sottonegozio A Valpadana Via Valdichienti 71 Io registravo Cioè tutti noi Anche Corveleno Nel cesso Di questo Sottonegozio Che era grande Come Questa più quella C'è una cosa di C'è un metro quadrato Infatti se uno sente La cappella Ci vorrebbe C'è assurdo Che farire Vabbè Gli era riporto L'ascolta E dice Vabbè Capolavoro È perfetta Dico perfetta Ma che c'è Perfetto Dico no no Perfetto Non ti preoccupare Perfetto E mi fa Trovo il budget Per fare il video E le cose Senti Marco Antonio Manetti Per buttare giù L'idea del video Vabbè Allora chiamo Marco Antonio Marco senti Dobbiamo fare un altro video Ah figo figo Che favo Dico super capone Ho fatto Dai dai C'è Ma le persone su disco Dico no Guarda Il test è un po' diverso Vediamoci da voi A casa E ce lo ascoltiamo E da lì abbiamo ascoltato Il brano E poi tutto quello Che è stato Che più o meno Non ha cambiato la mia vita Perché ero così pure prima Comunque diciamo che Professionalmente Ha cambiato la mia vita Perché in 20 giorni Questa canzone esplode ovunque Senza social Senza niente E mi permette di fare Quell'estate 77 concerti In 90 giorni Comprate casa Dove vivo adesso E tutto quello Che ne è conseguito Un metro quadro A concerto Questo è stato No Allora con l'euro Sì Siccome l'ho presa Prima nell'euro Con mezzo tour Cioè in senso Ah ok Già a mezzo tour Era arrivato E poi Però Diciamo che L'unico problema Che c'è stato È che chiaramente Di colpo Una cosa rap È arrivata a tutti Ma proprio tutti Tutti E non c'è la preparazione Sul fatto che il rap È anche molto fumettistico È giocoso Cioè nessuno pensa Che Eminem Con la motosega Voglia uccidere la moglie Nessuno pensa Che tutti I rapper Che ascoltiamo Barra trap Racconti con la loro vita Reale Qualcuno Forse un po' di più Ma molti È per sentito dire O per averlo visto In qualche serie tv O per averlo visto Magari a qualche amico Loro Ma non fatto in prima persona Quindi c'è stata Quest'idea Un po' Forbiante Per cui poi io Facevo Dicevo cose Che in realtà Non avevo mai detto e fatto Non essendoci social network Non potevo chiarire Quindi all'inizio Ho provato a chiarire Usando un altro Media Per correggere il tiro Del media precedente Al terzo giro Credo che peggioravo La situazione Perché poi ognuno Aumentava il Come posso dire Il fuorifuoco Del racconto Ho detto Vabbè Se ci parlo più Sti cazzi Faccio musica Quale altro media Usa? No Media Sì scusa Intendevo Magari canale O programma Ok Magari qualcuno Aveva detto qualcosa Su un giornale Qualcosa di sbagliato Magari sull'intervista successiva Tentavi di Chiarire a parte che sono A volte corridoi Che non comunicano Perché se tu fai un'intervista Su Allora Su Repubblica Che era Un giornale Insomma Più di sinistra E la facevi poi Che ne so Sul tempo Perché suonavi a Roma Non è che Due fette di popolazione Totalmente separate Che dicevano Le cose sbagliate Quali erano? Beh ti dico una Così eclatante Faccio l'intervista Così Perfetto italiano La leggo il giorno dopo Insomma Vabbè Sì non si usava ancora Vabbè Mi chiamo il piotta Vengo da E Faccio Ma chi l'ha mai fatta Così Mi piace mangiare Beve Ma scusa Ma scusa Dico ma Io ti ho risposto così No no Ma capito Così è divertente Dico Sì ma Se la volevo fare divertente La facevo divertente O lo facevo sul palco Tu mi fai intervista Oppure Altra cosa Tipo Alla quarta domanda Tipo in Sardegna Eravamo Vedo che Questo mi chiede una cosa Che non stava nel cielo Nel terra A livello musicale Dico Scusa ma te Di che musica ti occupi? No Io faccio Granaca giudiziaria Scusa A che c'entra? Eh ma La musica abbiamo uno solo Ma stava male Hanno mandato me Vabbè tanto dai Perché il rap Era trattato come la disco music Vabbè dai Che cazzo devi dire Cioè due cose così E più o meno era Cioè ogni giorno ce n'era una Cioè Era particolarmente stressante Perché Se fosse oggi Direva C'è problema Apri Instagram Apri Vabbè Facebook Non lo apri quasi più nessuno Comunque diciamo così Un social network Abbastanza diffuso Prendi Prendi L'articolo Taghi il giornale Taghi il giornalista Taghi tutti Rispondi E anzi Ti fanno pure un favore Ma all'epoca non era possibile Oppure passava troppo tempo Magari per chiarire Un'affermazione Che magari manco era mia Mi era stata attribuita Senti E 77 date In 80 In 90 giorni In 90 giorni E come Perché Stavo spaccato con la voce Anche perché rispetto Poi io ho studiato dopo Diciamo un po' L'utilizzo del diaframma Insomma Riscaldare la voce Tutto quanto Mentre all'epoca era proprio Un po' come quelle serate punk Selvagie Che vi raccontavo Soltanto che un conto È farne una A settimana Un conto è farne Cinque a settimana Quindi stavo a volte Proprio spaccato Per quanto lo show Alla fine durava poco Perché avevo un album solo Cioè il massimo mio era 50 minuti Poi magari uniti Con i Corveleno Facevamo un'ora e mezza Quindi magari facevamo anche Per esempio abbiamo fatto Il Palatrus Non so come si chiama Comunque il Palatrus Sardi a Milano Eravamo noi due Perché era impossibile Farlo da solo E però tu Cioè con i Corveleno Ma giravi anche da solo Perché chiaramente Supercafone Era andato oltre Cioè io Un bambino di 8 anni Che viveva all'Aquila I Corveleno A 8 anni Non avevo idea Che cosa fossero Supercafone Diciamo Ammazza questa è la canzone La più bella della storia Di questi 77 concerti Erano sempre io Poi a volte Se lo show era stato Diciamo Acquistato O comunque organizzato Come uno spettacolo lungo Di un'ora e mezza Io non avevo un'ora e mezza Non potevo fare 12 volte Supercafone E anche sommando Tutto l'album Più i pezzi col colle Alla fine Alla fine venivano 50 minuti Minuto più Minuto meno Quindi comunque C'erano magari Corveleno Che aprivano lo show E poi facevo io Poi magari Li facevo risalire Un po' di jam E si chiudeva Con i bis Però il pubblico È cambiato Perché cioè Prima facevate I posti Dove si faceva rap Poi immagino Poi supercafone Vai a Ravenna Magari non c'è La scena rap di Ravenna Ci stanno Le persone No ma poi la scena rap Allora di una città Erano comunque ecco Bene che ti andava Mille persone Invece magari di Ancona Feci 12.000 persone Quindi tutti anconitani Mamma e papà Figli e figlie Supercafone Ma Ancona rap No noi erano bravi Cioè io Turi che era accanto a me Che era fortissimo Squarta ai piatti Che comunque riuscivamo Proprio come missione A traghettare Tramite Due canzoni Cioè tre Robacoatta Spingo io Supercafone Tutto invece Il percorsi pop Mio e anche romano Ma era molto faticoso Ma avendo fatto il DJ Ero abituato Bastone carota Bastone carota In quel caso erano Tre bastoni e una carota Perché i pezzi arcore Erano di più di quelli Eh lo so sì Quindi facciamo delle pantomime Tipo Vabbè adesso arriva il pezzo Che conoscete tutti Dai squarta Manda No 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 Vabbè aspetta Aspetta C'ho un'idea Scusa Aspetta quello Ma facciamo dopo E boom Quindi sempre il Il piccolo trucco Per riavvicinare E poi dare magari Una cosa invece più dura E poi Finalmente arrivare a quella Che poi insomma Tutti chiaramente Vogliono cantare E quindi tu ti sei fatto 99 anno proprio di fuoco E quello è l'anno Che hai fatto Festival Bar Sì E come è stato Perché c'è una tua citazione Su Festival Bar Che fa molto ridere Una cagata Una cagata il Festival Bar Era io avevo l'illusione Stando a casa Che il Festival Bar Forse Fosse la summa Dei successi Dell'estate No La mia etichetta Mi dice Dobbiamo fare il Festival Bar Ah ok Mi fa Vorrebbero che tu Andassi vestito da Supercafone E fatta una col cazzo No No ci tengono tanto Se facciamo così Ce ne fanno fare due Una col vestito da E una invece dove vai te Così normale Cioè normale Vestito XXXL Ma comunque Io che ero ingenuo allora Ho detto Vabbè Facciamo così Ma avrei dovuto dire Sì facciamo così Prima normale E poi dopo col vestito Arriviamo all'Arena di Verona E invece Scioccamente Assecondai la richiesta In partenza Quindi Primo errore Seconda Arrivò lì Mi dicono Ma te che Ma che te hai fatto al vivo Dico No Ma è un problema Dico Ah è un problema Come si può fare Eh ma qua è tutto playback Come facciamo Siete tantissimi A fare le prove Le cose Dico Vabbè ma noi C'è il rap C'è una strumentazione Vabbè ora ho la band Da dieci anni Penso all'epoca La strumentale basta Dico C'è il DJ Mette la strumentale C'è il microfono aperto Non mi sembra così Eh vabbè dai E quindi ottengo Faticosamente Questa cosa E Poi Mi aggiro nei camerini E vedo queste scene Così proprio Televisive No Trucchi Parucchi Tutto un po' Finto Cioè rispetto Alle gemme Ai concerti Dove Stavamo lì Ore e ore A fare le prove Poi in camerino Si parlava Tra amici Musicisti Fammo così Facciamo il featuring Ha sentito quel campione Oh quel disco C'era una passione Pazzesca Che era veramente Travolgente L'era proprio Dobbiamo lavorare Tipo le poste Capito Chi più chi meno E quindi già non mi piaceva E poi L'errore più grave Fu soprattutto Il primo Perché ripeto Io stavo con Etichetta indipendente Era solo distribuito Da una major Che vuol dire Nulla Ma non sapevo Tutte queste dinamiche Non le conoscevo Pensavo che la musica Funzionasse per merito E quindi il fatto Che sta canzone Fosse scoppiata Da un indipendente Non solo Non era bello Per le major Ma era il male assoluto Cioè io Era il male assoluto Perché era la prova Che una cosa Comunque appassionata Magari anche Imperfetta Nel mix Nella produzione Ma comunque Insomma Verace Si potesse arrivare A tutti Senza dei Passaggi obbligati Che chiaramente Vuol dire che C'è un guadagno Multiplo Di varie realtà Quindi io andavo In qualche modo Segato Siccome era impossibile Farlo perché Nelle discoteche Anche più dense Che c'erano Mettevano supercafone Tre volte a sera Per riavvicinare La gente in pista Se io andavo All'area di Verona Cioè vincevo io Punto e basta Quindi il punto Qual era Io non ce dovevo Proprio andare Perché doveva vince Lubega E le varie Match Vince Lubega Mi sembra di sì Con Mammo Number Five Che comunque Si era figa Si fighissimo Si 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 Certo E quindi Io non fui proprio Convocato per l'area Di Verona Capito Ah pensa tu Questo non Perché andando lì Poi che cazzo vuoi fare Cioè il tripudio Eh no certo Figurati Io invece pensavo Tu fossi andato All'arena di Verona Perché No 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 Io feci una puntata In Puglia Ma non mi ricordo bene Ti ricordi Del brano italiano Che ha vinto Quell'anno No non c'era Mi sa che là Vinceva uno solo Ah vinceva solo Un brano E quindi Mammo number five Perché Che è fichissimo Il pezzo Ma infatti Non è che dico Che dovevo vince Assolutamente Però certo Non potevo non essere All'arena Eh no Cosa che invece È stata esattamente così Perché Avrei creato Un precedente scomodo Dicendo Ma come noi Multinazionali Investiamo Fior fior di Milioni di lire In quel caso Centinaia di milioni Arriva questo Indipendente Con una cosa Prodotta anche Cantata in un bagno In un bagno Da Roma E non per cazzo Insieme a fa Quindi proprio E quindi Diciamo In quell'anno Ho amato il mio lavoro Ma ho scoperto Essendo diventato In quell'anno Anche un lavoro To cure E anche tutti i lati oscuri Di questo lavoro Che ce ne sono parecchi Ma non è che Solo in quello della musica Cioè in tutti i lavori Anzi che almeno Diciamo Io comunque posso Divertirmi Ho anche la libertà Di raccontarlo Al microfono E quindi Non è una cosa Che può Purtroppo Essere appannaggio Di tutti Cioè sarebbe bello Che ognuno potesse No? Lottare contro Il mobbing Che spesso riceve Magari sul luogo di lavoro Non può farlo Invece con le canzoni Posso comunque Farlo E sternarlo Sia le cose negative Della vita Personale Familiare Di una scomparsa Per dirti Che cose Invece magari Che accadono Con dinamiche Più lavorative Però a quantomeno Ti puoi sfogare Ecco E tu a quel punto Scegli Di rimanere Indipendente Perché immagino Fai super cafone E ti dicono Ah Ma tu Vieni qua Noi ti mettiamo Intorno Tutte I lustrini Le paillettes Passi Con una major E l'estate prossima Si torna in pista Però Quei pezzi grossi Io faccio Il chinotto neri Cioè nel senso Che No Perché lo sono fatto Io così Di carattere Non è che poi C'è nessun calcolo Particolare Che siccome Mi lego Molto umanamente Alle persone Ero legato a Claudio Che era il mio produttore Avevo un contratto con lui Volevo onorarle A rispettarlo Lui con me era stato umanamente Cioè ed è tuttora Perché siamo amicissimi Anche se Mi produco poi da solo Nel tempo La mia etichetta Cioè Carino con me Onesto con me Quindi perché Dovevo tradirlo E quindi sono rimasto Con Claudio Abbiamo onorato il contratto Fino All'anno poi Di Sanremo Che era l'ultimo album E comunque Poi abbiamo fatto Il Giacuaro Il Mambo del Giubileo La Grande Onda Quindi insomma Non è che Non abbiamo fatto altro Però mi si è ascoltato Anche con la realtà Diciamo Del cosiddetto Mainstream Indubbiamente Non è così Tra l'altro È anche peggiorata Nel frattempo Quindi È peggiorata? Sì è peggiorata Perché secondo me Opinione personale Perché Diciamo che il web Il digitale Ha dato l'illusione Di una maggior libertà In realtà Secondo me È un'illusione Un'ipocrisia Perché in realtà Non è vero che è così Perché in realtà Tutto ciò Che poi si muove All'interno di quei canali Ha un investimento Alle spalle Che permette di essere Un qualcosa di successo Più di più percepito Come un qualcosa Di un successo naturale Invece in realtà Raramente naturale È per lo più dopato C'è anche Le playlist di Spotify Il disco d'oro finto Il disco d'oro finto Col vinile Probabilmente L'hanno fatto anche I Pink Floyd Prima di esplodere Ma sono i Pink Floyd E il CD finto Anche qualcuno Ha fatto il disco d'oro Ma comunque Aveva un impegno E un costo Non indifferente Gli streaming Dopati È tutto molto più Facile Aleatorio Sì Sì E poi forse Anche il fatto Che adesso Sia tutto Soprattutto per la musica Mi sembra che la musica Tenda molto di più A omologarsi Subito A qualcosa Cioè Visto che sei Su quei canali Su cui c'è tutta la musica C'è quella che funziona E quella che non funziona Poi è più facile Che le persone Degano Fammi mettere Nel canale La musica Che funziona Però questo No no Quello tanto Perché specialmente La discografia Dice sempre Perché non fai una cosa Tipo Io rispondo sempre Ma tipo Se l'ha fatto quello Che cazzo lo faccio a fa Devo fare una cosa Differente Che è più personale Chiaramente Sai se lo fa Un artista internazionale In chiave personale Ha più chance Di avere spazio Fatto da un italiano Salvorare i casi Insomma È più complicato Sì no C'è una domanda Ma quindi Com'è stato il passaggio Tra un momento In cui eri proprio Sulla cresta dell'onda Poi al massimo A poi Cioè tu Anche per scelte Appunto etiche Diciamo personali No Etica è un parolone Cioè era proprio Caratteriale Caratteriale Ok E poi ovviamente Sei Con il passato Sei rimasto Più underground Diciamo Ma io Lascio su questa domanda Che devo Ma torno Sì sì Il mio percorso Mi fa più via Che c'è questo problema Mi hai detto Ma ogni tanto Accadrà Che devo Lui non ci è andato Quindi Tu quante volte Ce l'hai durante la No io in genere Non ci vado Ma mi sa che oggi E lui ce l'ha due volte Eh sì E lui ce l'ha Una certa età No comunque Che ti vorrei dire Dico Cioè il mio percorso Personale Umano E che vabbè Anche lavorativo È molto schizofrenico Cioè io c'ho Dei picchi altissimi Di successi Anche inaspettati Di cose che Ma che proprio Non ho mai previsto Cioè Canzoni che fanno Dei loro Come sembrano Di voi figli Ha fatto così Mamma davvero Non me l'aspettavo Cioè E altre cose Dove magari invece Non ha funzionato Per niente Cioè La media è buona Però è una media Che è fatta Di picchi molto alti E di cose che hanno Funzionato meno Che poi per esempio Dopo Supercafone Robocatto Ho fatto il film E quello ha funzionato Molto meno Però la canzone Il gioco Ora invece Ha funzionato molto bene Poi La grande onda Molto bene Però il pezzo Di Sanremo Sono arrivato ultimo Cioè È un po' Ho capito così Ma io non mi credo Più niente Cioè Per un anno Per qualche tempo Magari mi dicevo Ma forse devo fare così Devo fare colà Poi è successo Che una mattina Ho detto Ma sai che c'è Ma che cazzo Se ne frega Cioè faccio esattamente Quello che facevo all'inizio Cioè quello che mi piace Poi se piace anche agli altri Bene Se non piace Piacerà Non piacerà Vabbè Non è che uno può essere Giusto Cioè Diventa anche un qualcosa Che non ti permette Manco di goderti Quello che Che hai raccolto O anche un successo Apparentemente minore Ma Va pure analizzato Perché se è una canzone Magari molto introspettiva È un successo È un successo minore Ma sviluppo Cioè Sette vizi capitale Quella di Suburra Se vedi i numeri È meno di supercafone Ma se analizzi La qualità di quei numeri È forse di più Perché è un brano Dove magari Ti arriva un Tommaso Molto più emotivo E te a quel brano Magari ti leghi In maniera differente Che non un brano Un po' più Piacevole All'ascolto E di passaggio Capito Sì Quindi Cioè Un po' come Le situazioni sentimentali Cioè La storia è un po' lunga Un po' arenata Che non succede niente Però apparentemente È più lunga Di una che è stata breve Però magari quella breve Ti ha scioccato È una botta emotiva Allucinante Cioè È la situazione Di una notte Che dici Non mi ricordo bene Il cognome E invece Quella che è mai Di una notte uguale Però dici Porca puttana La distanza Altri paesi Non era possibile Però ti ha proprio Segnato profondamente Quindi Sette vizi capitale Giusto No Sette Lui è sul meglio È andato via Cioè Che meso ho perso È È meglio È bellissimo È il meglio Cazzo Vabbè Ma la rivedo Su Youtube Con NordVPN Senti Ma invece Il film Cioè Quello invece Com'è nato Cioè Com'è venuta L'idea di fare Allora L'idea è venuta Perché Goodie Music È vicino Alla Italia International Fit di Lucisano E quindi Federica Che era Cioè La figlia di Fulvio Andava lì Da Claudio A comprare i dischi E dice Ah ma cazzo Lo fai te No cazzo Non l'ha detto L'ho detto io Ah ma cavolo Lo fai te Cioè Produci tu Tommaso Che figo È bellissima la canzone Ma perché Non facciamo un film Con Tommaso Claudio mi chiama Ma quell'estate Mi chiama tipo Oh vogliamo fare Un libro di ricette romane Cla Ma mica faccio Lo chef Ma che cazzo Mi frega Senti Vogliamo fare Miss Italia Ma che cazzo Centro con Miss Italia Vengono i centri sociali Voglio fare Uno spot Per Topolino Cla Topolino Sta sul cazzo Sono un paperino No però Pure quello è successo Non me la sento Topolino Davvero Topolino Nel 2002 Mi hanno chiesto Se facevo Poi l'ha fatto Bossari Che sta nella piscina E parla con Topolino Ah E tu potevi parlare Con Topolino Però No ho detto Che posso parlare Con Topolino Farite Sta cosa Non c'è Lui pensa che esiste Vedi Non ha capito Io stavo Io stavo in fissa Se potevo parlare Topolino Ma poi il dialogo Era assurdo Non me la ricordo Però E Vabbè Poi altre cose Invece Dice Ah fighissimo Facciamola subito Perché dipende Un po' Cioè Chi mi chiede la cosa E anche poi L'idea Perché non è che Uno non deve fare le cose Per principio Molto è legato All'idea Perché magari È anche un luogo Che è totalmente avulso Dal percorso Che ne so Ognuno il suo Però declinata bene Su di te Può essere un'idea figa Magari anche Diversa No Anche Un po' provocatoria Invece alcune idee Erano solo banali Cioè Libro di ricette romane Dove poi le ricette Non le scrivevo io Perché non ero manco in grado Io dovevo solo fare le foto Col piatto in mano Ma che cazzo Mi risponde Dice C'è stanno Era Non mi ricordo Quando diceva 20 milioni Guarda Non è per 20 milioni Cioè Per carità Mia madre si fa il culo Cioè Come impiegata Mio nonna faceva il fornaio Ci aveva messo 10 anni E fa 20 Però mi fa cacà sta cosa Perché Io non cucino Le ricette non le scrivo io Devo fare solo Carbonara Numero due Come fa il programma Con i viazzanicchi Tipo Non mi ricordo Perché il prezzo è giusto Vabbè È una cosa vecchissima Che c'era pure 100 Vabbè C'era una musichetta Così E poi arrivava il prodotto Griscia Cioè Mi sembra troppo Trash E invece Quando Claudio mi ha detto Del film Ho detto Cavolo Il film Porca puttana Cioè Non ho studiato Come attore Infatti si è visto Però tutti Noi bambini Che è di Roma Chi non si è mai fermato davanti A un set Con tutti i camion Gli attori No E altrimenti Salario Dove ho appunto Passato la mia infanzia Giravano un botto De film Specialmente Villaggio Perché abitava All'avvicino Quindi si vede Che gli era comodo Io ricordo Una mattina Che uscì Da scuola Con mia nonna A piazza Caprera Vedo tutti Sti camion Dico nonna Che fanno Questo è il cinema Cinema Cioè Quello che guardi Poi Non so Quando vai al cinema Con mamma Così Dico Ah Cioè lo fanno così Non è che pensi Che lo fanno così Il cinema Pensi che In un luogo Mitologico E vedo Il signor Villaggio E l'attore Che di cui ora Non ricordo il nome Mi dispiace un botto Perché è sempre bello Ricordare Non il personaggio Ma il vero nome Comunque Che fa filini Nei vari fantozzi G.G.Reder G.G.Reder Che poi è grandioso Vedo G.G.Reder E Paolo Villaggio Che girano Una scena di Fracchia Cioè quello lo scopro dopo Perché io vedo la scena Poi esce Fracchia Dico Mamma mamma Paolo Villaggio Dillo a tuo padre Papà Paolo Villaggio No sta sul cazzo Paolo Villaggio Perché Io già faccio Impiegata Vedeste Mi sento male Vabbè Ma chi mi porta al cinema Cioè Chiamo i caschi blu Chi mi porta Io faccio poi tutta Faccio Ma per un'ora e mezza Che poi La versione Light Di Così Finché uno dei due Vabbè Guarda Te ci porto io Perché c'è veramente Lotto il cazzo Con sta cosa Te ci porto io E quindi E vedo la scena Questa scena che avevo vista A Piazza Caprera Cioè senza camion Chiaramente Dicevo Madonna io c'ero là Cioè sta cosa Ma troppo emozionato E poi è successo anche Come quasi a tutti noi Altre volte Quindi mentre rispetto alle ricette Ho detto Ma chi se ne frega Miss Italia Davanti alla parola cinema Dico no Vabbè Non posso rifiutare una cosa così Perché è a rischio massimo Però se poi non mi ricapita C'ho un'esperienza Che vorrei vivere nella vita Cioè quella di stare Dentro a un film E poi vederlo su Maxi Schermo E se c'è Un anno in cui ho lavorato Come non mai nella mia vita Cioè anche rispetto adesso È stato l'anno del film Cioè mi sono fatto un culo Andavo tutti i giorni In produzione Ho seguito tutto Il casting accanto al regista La sceneggiatura con i manetti E con mio fratello Che l'abbiamo scritta tutti quanti assieme E Federica per le cose produttive Cioè qualsiasi cosa ho seguito Cercavo di capire tutto Però il cinema è difficilissimo Perché io venivo dalla musica Avevo appena cominciato E la musica più o meno Cioè in dieci persone fai tutto Il cinema penso che Il livello di difficoltà massimo È la politica Ma secondo è il cinema Perché è un mix di creatività Produzione Diplomazia Paraculaggine Promozione Cioè È pazzesco E quindi per quanto mi sono impegnato Tanto Il risultato poi Non è stato quello Che era nella mia mente Perché l'errore Come tutte le cose Che non vengono perfette È sempre Alla base Nella costruzione Delle fondamenta Io ho portato Una sceneggiatura Da paura Che aveva scritto mio fratello Che si chiama B&B Perché il film usciva nel 2000 E c'era il giubileo Quindi era perfetto Dove semplicemente Raccontava la nostra Soprattutto Sua storia Cioè che era andato a vivere Per non stare a casa con me I genitori Ma dividere un po' La camera che avevamo Nella mia camera E lui averne una tutta sua A casa di nostra nonna Era andato a vivere Da nostra nonna Che chiaramente era friulana Aveva fatto la quinta elementare C'era una visione della vita Molto ogni cosa E senti nonna Voglio far rap E poi diceva Era sveglissima Però purtroppo Aveva studiato poco Per cui al telefono Ogni tanto sentivo Che faceva Sì sì Allora arrivederla Sì sì Arrivederlo Nonna scusa Arrivederlo Sì è uomo No dico no scusa Nonna aspetta Cioè le basi un attimo Cioè tu vabbè Fatto finire la quinta elementare Non è colpa tua Però per fortuna Mi permettete di studiare Cioè arrivederlo Non si può sentire Era inclusiva Poi gli dicevo Senti Era inclusiva Dico Sì Poi una volta fa Te lo compro il gelatino Dico sì nonna Mi prendi il Aspetta come sia quel gelato È un gelato dell'algida Che era uno dei primi Con la parola in inglese Che era tipo No No Twix Tipo Twix era Twister No il Twister è già dopo Come era fatto Winner Winner lui Eh sì nonna guarda Mi ti riprende Il winner che è appena uscito Perché c'è poi La 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 Mù e tutto quanto È più il gelato Il cioccolato Così Ah ok ok Cornetto Valcita Ma il winner È finito Secondo giorno Nonna il winner Tanto sarà arrivato C'è pubblicità Ovunque Sì sì Eh T'ho preso il cremino Winner è finito Al terzo giorno Dico senti nonna Guarda Mi dai i soldi Cioè vado io Vabbè ti dà i mille lire Vado al bar Senti ma ti è arrivato Winner Ce l'ho sempre avuto Come ce l'hai sempre avuto Sono due giorni Che viene nonna Non mi l'ha mai chiesto Winner tua nonna Mi ha chiesto Cornetto Valcita E cremino Nonna Scusa Mi spieghi perché non hai preso Il winner Eh non so dirlo Cioè lei si vergognava Non sapeva dirlo Andava là E prendeva il cornetto No vabbè ma è una cosa Cioè delicatissima Ovviamente la bacerei Se fosse ancora Viva per un'ora Però ecco Diciamo c'era questa Questa cosa qua Mi sono perso Con mia nonna Che mi sono un po' commosso E Che stavo dicendo Stavi Film Mi sono chiuso Ah il film Sì sì Quindi l'idea qual era Arriva Arriva il giubileo Il nipote Giovane Che chiaramente Fa l'università Vive in un mondo Più internazionale Fa viaggio E tutto quanto E la nonna Con la quinta elementare Che viene dalla campagna E dalle due guerre mondiali Voraccia si fece mia nonna La prima e la seconda Da ragazzina E affittano le camere Perché decido di alzare Un po' di soldini Facendo un B&B Quindi nella sua semplicità Era Funzionava Perché poi era In arrivo un po' La Roma di oggi Nel senso che era Il 2000 Quindi anche L'esquilino Era un po' Come forse Il Pigneto L'altro ieri E come Tor Pignatara Dopodomani Quindi Più o meno Sì sì Una buona analisi Una buona analisi Semplifica Ma insomma E Invece L'idea della produzione Era Vabbè Però qua non c'è Supercafone Perché era molto più Semplice Poetico Semplice E l'idea dell'ora È rifare un supercafone Spanso a un'ora e un quarto Ma non puoi prendere una cosa Di cinque minuti E far diventare di un'ora e un quarto Quindi con i manetti Ci siamo messi E poi detto Vabbè Facciamo una sorta di Di mix Di cinema di genere Che ci piace Il poliziottesco La commedia sexy La commedia così Proprio all'italiana E Il musicarello Così buttiamo dentro Anche Supercafone E l'idea era anche Non era malvagio Perché poi Il musicarello In chiave rap Chiamiamo Cartis Blue Che è stato il primo disco Di platino Nella storia del rap Quello che aveva fatto Clap your hands Everybody And everybody just Clap your hands Quindi era ballatissimo Dai breakers Anche nei locali Per la commedia sexy Lando buzzanca Ma impotente Quindi giochiamo sul contrasto Rispetto Al Insomma Al maschio così Italiano Che lui in tanti film Ha interpretato E così via Soltanto che poi Il poliziesto Il poliziesco È level morto Perché pare brutto E sano i bambini Il sexy Beh no Leva il nudo Perché pare brutto Leva qui Leva là Ma che cazzo Uscito fuori C'è una cosa Che la cosa più figa È la colonna sonora Che è super funk Con tutta gente Da paura Danilo Rea Lele Marchitelli Il top dei musicisti Più i pezzi rap Scenografia e costumi Figo Attori qualcuno Tra cui David Primo di Corpeleno Spaziale in quel film Anche Jim Max Di Flamino Cioè attori non attori Cioè presi della scena rap Oltre a quelli veri Però è un po' Diciamo La sceneggiatura Che è Che è deboli E come andò? No è andò All'app Che è un altro scotto Perché veramente Purtroppo Poi a volte Faccio questi errori Così da romano Che E io Stringo la mano A Lucisano Diciamo Facciamo il film assieme Con queste Diciamo linee guida Che ci diamo Poi mi contatta La più grande società Di cinema di allora Vicina Uno dei più famosi Ex presidenti Del consiglio italiano E compagnia E mi dicevano Perché fai il film con noi? Perché guarda Già ho parlato con loro Vabbè ma noi ti diamo il doppio Io su sta cosa sbrocco Perché dico Porca puttana Ma perché? Cioè devo fare la puttana C'è il doppio Il doppio di cose Non sai manco quanto prendo Non sai manco che me so detto Cioè mi ha fatto Tutto il culo sta cosa E ho fatto No guarda Proprio no E quindi Ho dato la mano a Lucisano Per me vale la stretta di mano Qui l'ho fatto con loro Ma chiaramente Come dico loro Alla metà di quanto avrei potuto avere Però la cosa non è finita là E che poi il film Con tutto che io a Milano Suono Ed è rosannato Perché Supercafone esplode Prima a Milano Che non a Roma Come è successo Con DJ Che la passa a Manetta MTV e compagnia Io il film mio a Milano Manco ci arriva Proprio non lo fanno Proprio uscì in sala Quindi esce solo Tipo nove sale a Roma Tutte concentrate E poi qualcosa al centro-sud Bucando totalmente Da Firenze in su E in particolare Milano Quindi con tutto quello Riusciamo ad andare in classifica Nella top 20 Ma là Siccome c'ero io Si aspettava Ebbè No non è manco primo Ah vabbè Quindi in realtà Poi è andato molto bene In diciamo In VHS Che c'è ancora VHS E poi anche per mesi Su esempio Comedy Central L'ha sparata a Manetta Con un sacco di modi Io l'ho visto In video Noleggio Sì sì Perché avevo fatto Sera a scuola Video noleggio È l'unica cosa Di cui non abbiamo detto Il brand Blockbuster No perché non era Blockbuster No Era uno Sconosciuto C'era A Medaglie d'Ora Andavi? Come? A Medaglie d'Ora A quella Medaglie d'Ora A San Giovanni Ah perché più serve Sì sì Perché c'erano Svariati a Roma E quindi c'era un po' Sì no Era anche una bella C'è un bel ricordo Di quella Di quella scena Perché l'ho Abbiamo fatto seca a scuola Con degli amici Ah già E quindi siamo andati A questo video noleggio Eravamo due maschi E due femmine E poi siamo andati A casa di uno di questi amici A Piazza Vittoria A vedere questo film E quindi comincia Al minuto due Questo amico E un'altra Si appartano E quindi io rimango Le appresti molto il film Diciamo Sì io rimango con questa ragazza Però con cui non c'avevo Tanta confidenza Quindi siamo visti tutto il film E non è successo niente No io l'ho rivisto Un po' di volte anche dopo Chiaramente alcune cose Dico vabbè Andate così Cioè fanno ride So veramente Però Comunque lo rifarei Cioè lo rifarei Lo rifarei magari Evitando alcuni errori Ma comunque Era inevitabile Cometterne Almeno uno Perché era avendo Una materia molto Molto complicata Diciamo che il lato cinema Sento un po' di essermi Messo in paro Con il mondo del cinema Col fatto delle colonne sonore E sicuramente Con quella di Suburra Perché mi piace molto Sette vizi capitale Perché Poi per la terza stagione Per chi l'ha vista Anche tutto il commento sonoro L'ho fatto io E Francesco Santa Lucia Con cui scriviamo Un sacco di brani Dal 2015 Però L'avevamo letto Ce l'avevi accennato prima Che la canzone di Suburra Non l'avevi scritta Per Suburra Bensì Per un film Cioè tutti i miei più grandi successi Hanno una Genesi Tortuosa Quelli che faccio Così al volo Che dicono Questo funziona Poi invece non funziona Sette vizi capitale È emblematico Da questo punto di vista Perché nel 2014 Mi chiamo alla Warner Dicendo Guarda abbiamo un film Dove abbiamo pensato a te Per fare la canzone Diciamo Il tema Se vieni in ufficio Ne parliamo Avevo ancora Ancora la sede a Roma E Vado lì E dice Guarda Ci sarà il nuovo film Il grande ritorno Di Thomas Millian Dico no Vabbè Ma che mi è stata a dire Ma davvero Perché Thomas L'avevo sentito solo una volta Al telefono Perché io lo citavo sempre E tutto quanto Mi aveva ringraziato Per questa cosa E mi aveva detto Io poi prima o poi Torno in Italia Che lui Era molto legato Per fare un film Dove torno un po' A fare il monnezza Ma il monnezza degli esordi Che era più poliziesco E meno commedia E quindi prevedeva Il ritorno di Thomas Millian Antagonista Franco Califano Come attore Figura femminile Massimo Filippini E Francesco Santa Lucia Che è il pianista Compositore Vabbè Non li conosco Però dai Ci conosciamo Da cosa nasce cosa Vado con lo scooter Dico Francesco Non ti conosco Dopo 5 minuti E io a fare una canzone C'è un'esperanza Gin Tonic Passano un po' È criminale E io dico Mettiamo lì Poi Vediamo Andiamo a vedere Sto film Che lo davano Al Cineplex di Ostia E al Cineplex di Ostia Cioè nel senso Tipo due sale A Ostia Un weekend Questa è la proiezione Del film Di Roma criminale Di Roma criminale Sì Io ho anche il DVD Se vuoi te lo presto Ma qui non era Suburra Io pensavo fosse Suburra Poi hanno cambiato il nome Perché erano No no era proprio Sai quelle cose tipo B-movie anni 70 Fanno Rambo E in Italia Fanno Ringo Sì 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 Che è più o meno Vestito uguale Cioè Fuga da New York E c'era Un altro simile Non mi ricordo Fuga da New York Una cosa così E praticamente Vabbè Vediamo sto film E io tipo così Dico vabbè Cioè veramente Sta canzone è sprecata E quindi Mi do del culo Pure là Dico no Questa canzone La voglio mettere L'album mio Che uscirà nel 2015 Che è Nemici Tipo Amici Ma ho scritto Nemici E era un bell'album Cioè dentro C'era comunque Africa Bambata Captain Sensible Che avevo rifatto Watt C'era un pezzo Che brusco Dico la voglio rifarci Metto anche un ospite Che avevo gli amici Del muro del canto La facciamo Una chiave figa C'è il rap Col folk Che almeno quello romano Non l'ha mai unito nessuno Poi il folk Loro non è quello Ma è bello scuro Ci sta bene Quindi viene il muro studio La rincitiamo Col muro che suona Più la voce di Daniele Perché io la duro Quella voce da sempre Quindi no Daniele Me levo io Faccio la seconda voce Ma vai Come voce principale E poi Sandro Dice Posso aggiungere una poesia Ho fatto Ah da paura Sì sì così C'è pure la poesia In un brano Che comunque è una cosa Che Insomma è abbastanza Rara Che si faccia E quindi nasce Questa canzone Per l'album mio Quindi secondo passaggio Non è Roma cruda Per Roma Il prestigioso Roma criminale Anzi quarto passaggio Perché il primo passaggio È film con Thomas Miller E Califano No Poi Roma criminale E B-movie Con canzone Ni Finalmente Dico vabbè L'album È venuta pure figa La nuova versione La mettiamo La canzone piace Cioè tipo vado Dalla Tandini Ospite Dice ammazza che bella Sta canzone Vado a DJ Che non la metti In programmazione Però dice ammazza che bella Sta canzone Tutti che bella Sta canzone Ma non è che esplode A un certo punto Cammino di mattina Per il quartiere africano Cioè ancora mi ricordo La scena Stavo alla serie del diavolo Mi chiama Una persona che lavora Per Grande Onda E mi dice E Toma Guarda Hanno scritto una mail Urgente Che vorrebbero usare Sette vizi capitale Per una puntata Di Subburra Dico vabbè Buono insomma Comunque è sempre La prima serie Netflix Va bene Poi passano tipo Due settimane Eh Toma Hanno riscritto La voglio usare Per due puntate Ma è buono Poi riscrivono Guarda La voglio usare Proprio come sigla Buonissimo Ottimo Vabbè Smisto le varie cose Tecnico Burocratiche Legali Avvocate E quant'altro Chiudiamo l'accordo E finalmente La canzone C'ha una Quarta vita Perché a quel punto Grazie anche Chiaramente A Alla Visibilità Della prima serie Netflix italiana Quindi viene smarmellata In tutto il mondo Comincio a ricevere messaggi In turco In russo In Latino America In botto In Sud America Proprio Questa cosa Madonna E criminali Fede Sì C'è l'eccitazione massima Tre preghiere E 32 omicidi Bellissimo E quindi Da là Poi la canzone Insomma Il video E tutto quanto Poi il video Anche era Antecedente Perché lui C'era il mamma Prima della serie Poi Per fortuna In qualche modo Tra il mamma E la sua storia Il fatto che è a Roma Il video che è a scuro Tutto quanto Un po' si lega Come Come vocazione Come colori Però in realtà È Antecedente Oh E c'è anche un'altra cosa Che abbiamo letto Sulla tua Sulla tua musica Che arriva All'estero Nel 2004 Quindi Cinque anni dopo L'anno Di Gloria Di Supercafone Supercafone Diventa La sigla Del campionato Giapponese Di calcio No del campionato Sì sì Del campionato Ma come dicevo Tu ti hai rialzato prima Io ho detto Che poi le mie Cioè Io penso di tutti Ma sicuramente A me è successo Cioè le canzoni Sono come i figli Cioè ognuna Ognuna poi fa la sua vita Tu dici Ma come ha fatto Boh incredibile Cioè poi alcune sono Immortali Cioè la grande onda Per esempio Ti rispondo alla cosa Nasce come canzone Audiografica Come testo Poi diventa Canzone Generazionale Diciamo Del movimento Dell'onda Quindi è una piega Molto più Studentesca E politica Contro la riforma Gelmini Poi Le monzota Cioè Sono tre cose Diversissime Capito E in questo caso Succede che Claudio Il mio produttore Di allora Mi chiama E mi fa Tommaso Guarda che È arrivata una richiesta Da Tipo un fax Una mail Non mi ricordo Dal Giappone Perché voglio usare Supercafone Come sigla Del campionato di calcio Italiano In Giappone Sai come qua La domenica Vedi che ne so Il meglio della Premier League È uguale Io ho detto Vabbè Che là dai Cioè però Se devi fare uno scherzo Non esagerare Perché Così Non funziona Troppo Mi fa No ma stai scherzando Vieni Vedi Vedi l'email Vedi l'e-mail Vedi in ufficio Me la stampa In inglese risultava Questa richiesta Affirma Signore Morimoto Dico Gra Morimoto Cazzo ma dai Saracinescu Inventatelo meglio Mi fa Mi fa Tommaso È vero Non so come dirtelo È vero Sky Japan Vuole usare questa cosa Dico ma davvero È assurda sta cosa È pazzesca Ma facciamola Comunque Dai È divertente Quindi parte questa cosa E non finisce là Perché a un certo punto Mi chiamo dicendo Senti ma ti andrebbe Di andare a suonare a Tokyo Dico Cazzo Sì Da paura Ma come funziona Per gli spostamenti E purtroppo C'hanno poco cachet Per cui ti pagano L'aereo L'albergo Vitto Alloggio Le macchie Le cose E poi anche un po' di soldi Dico pure Ammazza E che è un problema Ha fatto No perché non è che resta tanto Ha fatto Ma che cazzo se ne frega Cioè ma da paura Una bomba E quindi ci ritroviamo Andare a Suonare a A Tokyo A Shibuya In un locale Era tutto Era una strada Tipo un cilindro Circolare Quindi Forse come quantità di persone Alla fine È tipo questo Un po' più grande Però comunque insomma In Giappone Con I media Interviste E quant'altro Serata surreale Perché era dedicata Alla cultura italiana E ricordo ancora Che c'erano Fai conto Un bicchiere così Vuoto Con dei cristini Poi c'era Un piattino Con un po' di olio E te Alla modica cifra Allora di Cinque euro Potevi prendere Il tuo cristino Fare così Nell'olio E poi mangiarlo Che io ti dico A parte C'è La cifra Vabbè Magari in Giappone È normale Che costi Ma che piatto italiano è C'è il cristinico Che già usa l'olio Con un po' di olio C'è una pseudo brusca Che cazzo è Non lo so Non ho capito Infatti nel dubbio Ho detto Andiamo a mangiare il sushi Che qua lo fate bene Perché Eppure quello è importante Non è che Vai a Tokyo Griscia No Evita Prendi il piatto locale Che vai sul sicuro E quindi Mi si trova là Insomma In varie cinque notti Siamo stati così Ma come era Il pubblico Ah il pubblico là Surreale Perché io ho detto Facciamo la scaletta Con i pezzi Quelli più rap Stili americano Perché che cazzo ne sanno Di quelli italiani Quindi c'è Dei pezzi più hardcore Anche con un paio di ospiti americani Comincio con quelli Ti faccio il primo pezzo Diciamo Sala così Io faccio il primo pezzo Bello cazzuto Con la maglietta della Roma Con scritto Totti Così eh Eh mi sto giocato Con le quattro cose Che dico Magari là le conosco Giustissimo Così Io guardo il mio digerico Stavo una merda Cioè Se questo è il top Cioè Dopo abbiamo quelli italiani Non funzioneranno mai Ogni brano L'applauso Perché era Timido Era un po' meno timido Timidino Discreto Onesto Sincero E più i brani erano italiani E più cresceva Tanto che Io quell'anno Avevo fatto Sanremo Avevo fatto Un remake in cover up Di Chi non lavora Non fa l'amore Di Celentano Che poi era andato Molto meglio Del brano E quando ho fatto quella Dei giapponesi Spiegabilmente Sono saliti sul palco E facevano stage diving Chi non lavora Non fa l'amore Questo mi ha detto Stage diving Cioè Sei disturbato Cioè Proprio a livello così De melodie E' uguale Più i pezzi Anche là Più Ballati Ascoltati Non cantati Perché Insomma Chiaramente era difficile Supercafone Grande onda Vabbè Supercafone Un po' Sì Vabbè Ma C'è Sigla Sigla Della Premier League Su Sky Non è che è una hit Cioè Di Gasi Ho sentito Certo Tipo The Champions Sì Tipo E come era Cioè Tipo lì Hai girato poi A Tokyo Un po' Sì Sì Beh Sono Tokyo E tanto parte di Tokyo Perché è talmente grande Però andare a Tower Records Che era allora Il negozio dei dischi Più grande al mondo Tipo i Sette Piani Andare al reparto musica italiana Le terapie Tirare fuori i propri dischi Io poi ogni volta dico Io stavo sul banco Del Giulio Cesare Con Filomena Marturano Che sbroccava Scrivi i testi E mi ritrovo a Tokyo Alla World Tour in America Che ne so In altri posti Quindi dico sempre La situazione è diventata Grazie Grazie Io l'ho dato Grazie a Dio Forza a Dio Stefano C'è un'altra domanda Vai Faccio un passo indietro Un attimo Sul film di Thomas Millian Tu l'hai visto? Allora il film Io ne ho visto alcune parti Che sono quelle che Francesca Aveva già musicato E più la parte doveva andare Il brano Ed era molto figo Molto in una bisca Quindi Dauli da biliardo Fumo Poi tante viste su Roma Tipo Castel Sant'Angelo Era bello Ma di qualità Anche come pellicola Come la 14 Era il monnezzo Cioè non era il monnezzo Cioè era No 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 Era Perché lui prima del monnezza Cioè il monnezzo iniziale Era molto più poliziesco E si rifaceva a film come Il Truci dello Sbirro Anche un film Che si chiamava Rambo Che lui ha fatto Che tra l'altro È uscito prima del Rambo americano Che è il grande mistero Di sto film Cioè lui fa Rambo Tra l'altro Lei è un ex militare Cioè è proprio molto simile Come Non dico la storia Ma il personaggio E poi Rambo americano Esce dopo Che infatti non si chiama Rambo Si chiama First Blood Sì però lui si chiama Rambo Lui si chiama Rambo Però il film non si chiama Sì sì E quindi Lo faceva in questa chiave Che ti dico Che poi nel Truci dello Sbirro Lui c'ha proprio un nome Ora non me lo ricordo Il nome e cognome Insomma Del piccolo criminale Così ecco L'unica cosa Un po' perché Già non c'era più Ferruccia Mendola Un po' perché Thomas Miri Ha sempre sofferto Il fatto che non potesse Lui Usare la sua voce Perché lui Siccome amava molto Osservare Parlare con le persone Riprodurre Nel linguaggio Nelle battute Ma anche nel look Le persone Vere che Aveva conosciuto Infatti lui Tutte le battute Le cose erano ispirate Dalla vita reale Cioè Per anni è andato Magari in giro per Roma Anche ai mercati generali Per cercare di carpire Battute E la regola Diciamo di questo film Diciamo La condizio Si ne qua non Era Io vengo Rifaccio Il Thomas Miri A che volete Però Con la voce mia Quindi ho sentito La voce di Thomas Miri Perché L'italiano Regge Ma si sentiva Che c'era Il tocco spagnolo Se lui è cubano Quindi comunque Era proprio Italiano Come Però Era fuori Anche dal No Era diciamo Quel filone Ma non è che Si chiamava Nico Giraldi Esatto Perché poi c'era stato già Il Prima non ti vuoi Di Nico Giraldi Ma quello prima No infatti Che era Il commissario No che c'era stato già Il film Fatto da Claudia Mendola Si si Che era proprio Una sorta Il ritorno Per Monnezza Che era un po' Un omaggio Quindi era comunque Successivo a quello Questo qui Si 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 Molto successivo Quello che dici te È del 2000 Mi sa Perché là Secondo me Contribui Anche io Con un sacco Di fatto Che avevo citato Per esempio Fece una serie Dal giornalaio Super Staccato Cafoni Ai limiti Diciamo Della legalità Con tutti I film B-movies Tra poliziesi Poliziotteschi Visto che sono italiani E anche la commedia Quindi da Banffi A Vitale A Thomas Miller Perché comunque C'era tornata un po' Di modo Una cosa Che era stata Sepolta Perché non si Veniva più proiettata Era stata sepolta A livello culturale Perché era visto Come un cinema Di destra Perché i poliziotteschi Erano concepiti Come cinema di destra Perché violenti La commedia sexy E commedia di no Banffi Come di destra Perché scorreggione Volgare e compagnia Non è il cinema Dato ora impegnato Invece in realtà Erano molto vicini A un certo gusto popolare Che non voglio dire Che siano migliori Ma è un modo Di fare cinema Diverso Che tra l'altro In Italia È stato molto importante Anche dal punto di vista Del lavoro Perché ha dato per anni Posti di lavoro A tanti Abbiamo prodotti Film di questo tipo A centinaia Tutto l'anno Sì Ma poi Sera anche creata Mi sa Pure in quegli anni Tutta una cosa Una sorta di wave Di super caffone Tant'è che Sera fatto pure Uno speciale A porta a porta Mi sa Sì 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 Che era Tipo Orgoglio coatto Come si chiamava Sì Orgoglio coatto Ma sai che era figa Poi di questi film Anche le colonne sonore Erano pazzesche Con nomi Cioè Nulla da invidare A quelle americane Anche gli effetti Speciali Artigianali Cioè Gli inseguimenti Velocizzati Delle cose I camera card Pazzesche Siamo alle domande Finali Perché No Abbiamo fatto Due ore e mezza Due ore e mezza Sì Madonna Sì sì Non mi si è accorto No no Infatti Il tempo Io non me l'ho accorto No aspetta Però c'è una cosa Che volevo Che volevo dire Cioè La trilogia Di Tintoria E Piotta La saga Sì esatto Questa è parte 1 Poi se rimanete Tra mezz'ora cominciamo No C'è una cosa C'è una cosa Tu hai citato Miss Italia Prima Esatto Perché è successo una cosa Il programma Che è successo Che tu non hai fatto Ti hanno invitato A Miss Italia No Mi hanno invitato a cantare Poi dovevo fare Secondo loro Io mi siedevo intorno A tutte le Miss in gara E facevo delle domande Poi il gioco Da super cafone Io faccio No 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 Il gioco Io faccio delle domande Di cultura generale Cioè giocando Io ho detto Veramente Cioè il mio percorso È molto differente A me sta cosa Di Miss Italia Con tutto rispetto Non mi è mai piaciuta Non l'ho mai visto Non mi piace Il senso Di Miss Italia Per cui Poi ha fatto anche Amicizia Con la famiglia Medigliani Per chiarità Anche per chiarirci Da questo punto di vista Cioè non è un giudizio Su quello che hanno fatto Che comunque Fa parte dello storico Di questo paese Però personalmente Il mio storico Ha un percorso differente Per cui nel rispetto Al recifroco Non me la sono sentita E più che mai In quel momento Di farla Però è successo Però Eppure Eppure ci sono persone Che raccontano Ah sì Ho capito che dire No è successo Che io non sono andato Però qualcuno Che ho detestato In quel momento Ma veramente Poi mi viene Insomma da ridere Col senso di poi Si è comunque Palesato Fingendo di essere me Alla festa finale Quella col buffet 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 Usufruendo di Non so cosa Vari eventuali Lo scopriremo Quando verrà qualcuno A bussare alla mia porta Dicendo Papà E Io ho visto anche la foto Perché Io poi tre anni dopo Ho conosciuto una ragazza Che era Che era in gara E mi ha detto Ah ma Non sei te Ho fatto No veramente Cioè io Tutti siamo Noi stessi Comunque Nello specifico Cioè io so io No perché eri più alto Ma è sempre stato così Eri più magro Sempre è stato così No perché C'abbiamo una foto assieme Quella volta A Miss Italia Ho fatto Voi non sono mai andato A Miss Italia Ma avete sta foto E c'è la foto di lei Con virgolette Me Chiuse le virgolette Cioè questa è andato là Si è spacciato Per me Ha fatto I suoi porci comodi E Ha fatto anche Che le foto Ma io Avevo la foto in mano Ma dici Ma lo denunci Ma chi è Come cazzo si chiama Non si sa Comunque è un genio Un situazionista Poi il situazionista Dieci anni dopo Mi sa Dieci anni E un giorno Scaduto Ogni tipo di possibilità Di recupero Ma poi Poi non avrei fatto nulla Però Forse Hai anche detto Guarda Frate Lì per lì Ti ho odiato Però Te sei un genio E ha Su Una pagina Web Un blog Che ho anche salvato Ma non mi ricordo Senza mettere mai Il suo nome Ha pubblicato Tutta la storia Di quello che lui Ha fatto Quel giorno E tutte le foto Dicendo Ah 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 Ho preso per culo tutti Ho fatto finta Ad essere piotta Che poi Sono tipo Della maremma Cioè Manco parlava romano E Ha messo Una maglietta bianca L'occhialone da sole Io comunque avevo fatto Il video che si vedeva tanto Ma nel video ero molto Mascherato Diciamo così Però qualcuno pensava Che io girassi Tutto il giorno così Con le tigre Cioè Nandorfei Cioè Tigre Vestiti d'argentata Infatti mi ricordo Andavo a fare qualche live Il DJ Bravo Bravo il DJ E Turi Rapper da poi Bravo bravo Oh ma i ballerine Frate ma non ce ne sono mai state I ballerine Cioè è nel video Una cosa ironica Il balletto No abbiamo Preceduto TikTok E Non ce ne sono mai state Ah non ce stanno Perché c'era questa idea Che io giravo Tutto il giorno Come se fosse un film Black exploitation Con tutto Diciamo il Come se fosse una scena Appunto del Del video E questo comunque Cioè alla fine Ti ripeto Col senno di voi Troppo ridere Mi piace pensare Quella persona Fosse Paolo Calabresi Che ha interpretato C'era questa cosa Di Però questa è un'altra cosa Che è a favore Di Paperinic Perché effettivamente Basta Basta Posso approfittare Diciamo Della eco Di Tintoria Puntata 1 2 3 Compiottaci Di questa saga Voglio parlare A quella persona Che si nascondeva Dietro a quegli occhiali Ovunque tu sia Chiamami Scrivimi Cioè vorrei Iscritturarti Per un video Qualcosa Perché È pazzesco Facciamo una carrabbata Ci abbracciamo Facciamo pace Bellissimo Poi lui si presenta E tu gli spari A un piede Questo è il rap Di Roma Pensavo fosse Una maschera No siamo Veramente così Ho aspettato Dieci anni Ma A proposito Aspetta Due cose Due Ho capito Ho capito Oh siamo a girare Il terzo episodio Ti dico solo Che è mercoledì E vabbè A proposito Di sosia Tu C'è un nostro collega Tu conosci Sandro Canori Ma chi non conosce Sandro Canori C'è stupendo Allora mi è un po' Dimagrito Sandro Un po' sì Rischiamo di perdere Questo No Questo sincronismo Fisico Non so come Ho inventato Sta cosa Quando andai Una volta Ospite a Radio Rock E lì conobbi Da Luigi Vespasiani Sandro Per la prima volta In effetti Dal viso tondo La barbetta Era un po' Diciamo così Pingue Senza esagerare E poi infatti Mi ha raccontato Sì che lui sale dice Incipit Dello spettacolo Non so arpiotta E io dopo salì qua Dicendo Allora non so Sandro Canori Esatto Stupendo Ci facciamo La intro E la puntata No Non so Sandro Canori C'ho questa Altra domanda Che mi tengo Da quando L'ho scoperto Questa cosa Allora Piotta Significa Cento lire Giusto Sì In realtà Penso tutto ciò Che a Roma È cento La cinquecento Il cinque piotte Le centomila lire Ma forse anche Cento euro Se hanno una piotto Ormai Mi ricordo Che nel film C'era proprio Le cento lire Appena Quindi io L'associavo A quello Cosa hai pensato Quando arriva Da un certo punto Un cantante Che si chiama Fifty Cent No Beh Ermezza Piotta Lo chiamo Anche quando facevo Un programma in radio Questo che ho fatto per anni Di hip hop Diceva Ma questo è un nuovo pezzo Del Dermezza Piotta Quindi Non hai detto Ma copiato No No Deve essere quello Di Miss Italia Può essere Era lui Può essere Era Fifty Ci può stare Che già Un po' di pallotto Le ha prese Quindi Sarebbe abituato Diciamo È abituato Ok Ma era questo Ci sono Delle rubriche Ricorrenti In questo podcast Una domanda Che faccio A tutti In questo piotcast In questo piotcast Anzi Guarda Vati in bagno Tanto già lo so Vai Tanto questa A te non ti riguarda Una domanda Che faccio A tutti quanti Gli ospiti È Che rapporto Hai con la Marijuana Ma io Ho fumato La prima sigaretta Tipo Avuto 19 anni Perché Diciamo La droga Sia pesante Che leggere A casa mia È stato sempre Un tabù Perché avendo Avuto un fratello Di 10 anni Più grande Quindi si è fatto Diciamo Tutto il movimento Del 77 Devastato Dall'eroina Cioè Non mio fratello Ma tanti amici Anche il vicino di casa Purtroppo Non c'è più Per questo motivo Per me la droga Era il più grande Tabù Cioè proprio Per me Faceva rima Con negatività Oscurità A morte Così Poi In realtà Ho capito Che forse Era anche Una posizione Un po' Esagerata E quindi In realtà Una sigaretta Una cannetta Però Diciamo Che Sempre in compagnia Cioè Lo vivo Sempre come Momento Ecco Tipo Con la band Magari In viaggio Ma Il personal Così è difficile Poi C'è una cosa Penso che sia positiva Cioè io Se sto preso bene Posso anche Spaccarmi Di Faccio serata Mi spacco Tanto sto preso bene Se ho un problema Sto preso male Non resto lucido Fino alla fine Della battaglia Perché Viceversa La prenderei Come una via di fuga E non mi Piacerebbe Diciamo A livello di Cioè non giudico Nessuno Anzi sono Sempre pronto A aiutare un amico Se serve Però mediamente Per la mia autostima Non farebbe bene Questa cosa Invece se sto preso bene Dico Cazzo me ne frega Metto il carico Vabbè È una visione Comunque abbastanza Consapevole Di quello che ti fa La sostanza Anche se non l'hai praticata Personalmente Per esempio L'erba legale La uso abbastanza Perché E che te fa? Io dopo che mi sono magnato Magari due piatti Di grigia Mi fa molto bene Perché mi permette Di digerire Particamente bene E anche di dormire Particamente bene Cioè la uso tipo Come se fosse Melatonina Che però ti fumi Sì Tipo una camomilla All'ennesima potenza Sì sì No è vero Io pure devo dire Quando E poi in quel caso Mi piace anche Sia il profumo Che il sapore Così in bocca Grazie C'è un'altra rubrica Ricorrente In questo podcast Che Mi piace molto Riportarla Quando Quando c'è una persona Un ospite Che fa anche i tour La rubrica si chiama Cacare in discoteca Per cui Chiediamo All'ospite Se ha mai Se gli è mai capitato In determinate circostanze Di dover andare in bagno In discoteca Discoteca intesa come Luogo dell'anima Cioè È un posto peggiore possibile E se ha una storia Che vuole Con me No ce l'ho Più di una Però una in particolare È anche carina È stata anche fortunata Come serata Perché quando uno fa i tour Di solito c'è dietro Insomma Il bagno chimico Il camerino Insomma Per l'occasione Di quelli Sai magari Che poi vengono spostati Però non sempre Può anche accadere Che c'è il camerino a basso Il bagno Magari è un altro punto Del locale O del festival Io poi Di solito si mangia Dopo in live Io a volte Mangio prima e dopo Tanto suono Quindi Smaltisci lui Ma abbiamo detto prima Certo Soltanto che d'estate Sai com'è no Bibbita ghiacciata Io sono un po' delicatino A livello di stomaco Quindi mangio Sembra tutto normale Sta per cominciare Quasi live Io ho la band Che fa un intro Lungo Ma non lunghissimo E proprio Mentre il batterista Siamo le dico Regà c'è un problema Qual è? Mi sa che devo andare In bagno Mamma stiamo a cominciare Regà Che cazzo faccio Mica posso stare due ore così Cioè Mentre il pannolone Allora Per fortuna Quella sera C'era tipo Sai quando Lo so Nel deserto c'è l'oasi Vedo un bagno chimico Proprio dietro Solo per noi Anzi solo per me Perché nessuno della band C'era ancora andato Quindi proprio personalizzato Lusso Completamente al buio Però vabbè Ricordi c'è il bagno chimico Ma non si fa in tempo Si fa Si fa Si fa Suonate Fate l'intro Bello lungo Tipo Blues Brothers Quando loro devono arrivare E la scena è questa Io così Così in bagno C'è uno spazio libero Il palco E sento la band che suona Ma in quel momento Oddio scusate In quel momento Ti c'hai un'ansia pazzesca Perché senti che il tempo passa Cominci a sudare Fa caldo così Più la situazione E dici Madonna mia Dio mio Devo sbrigare Però come faccio Quindi è tutto un mix Di ansia E prestazione Diciamo Però vabbè Riesco a fare tutto Proprio splendido Così pure con le Non è che diventa Troppo trash No Ti preoccupa Guarda Ti stai mantenendo Mi assicurate Che non è Ti stai mantenendo Su il dollo Molto legato No Avevo tutte le mie salviettine Una cosa proprio Molto borghese Così Aristocratica Non i centri sociali Da ragazzino E quindi arrivo Proprio sul palco Oh ci state Così C'era proprio bellissimo Per due ore Prontissimo Però smaltito Perché Cioè se non c'era Quel bagno chimico Non so che facevo Cioè al prato c'era Perché non ero in condizione Perché Forse il ghiaccio Qualcuno Eh sì Poi avrei bevuto La Pepsi Che fa Fa queste cose Sicuramente Non era il chinotto Questo è poco Ma sicuro No poi la grume Restringe Grazie mille Per questa condivisione Stefano Io Starei andando a chiudere No Ma che dici mai Sono solo tre ore No 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 Infatti abbiamo fatto un record Mi sa Sì sì Abbiamo fatto Abbondantemente Io sai che Andrei avanti Fino al 2 giugno Che c'ho il live Così poi ci spostiamo Andiamo tutti Ci spostiamo un pochino Al casilino Sky Park Che tanto è sempre Roma Est E siamo al posto Perfetto Per me va bene Beh la mattina ci vediamo Le forze armate Siamo pure i bagni chimici là Ci stanno pure Fai la prima data Che sono tutti puliti Mamma mia che bello Perfetto Stefano io Chiudiamo con quest'ultima cosa Vai Vai Però Sì Lui si droga ha detto No Ah no ok No E me l'ho perso quella parte No drogo no 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 Può capitare così Una cosa collettiva Rilassante Però oltre al Chinotto Ci hanno detto Che ti piacciono Gli amari Ah gli amari sì San Simone San Simone No dico Potremmo parlare del San Simone Ah ma sì Parliamo del San Simone No no È un amaro che A prezzo Ma ci paga? No No poi ti fai No gli amari sì No siccome mia nonna Contadina sì Ma friulana E poi delle altre nonne C'era una di Venezia E una di Treviso E poi un nonno pugliese E quindi? No e quindi Che devi fare Cioè già da ragazzino Cioè Grappa a casa Il vino La cosa Quindi c'è Un'abitudine Diciamo così A avere prodotti Di questo tipo a casa E Invece l'amaro non c'era Perché in Friuli Non c'è l'amaro C'è la grappa Poi negli anni L'ho scoperto Facendo i vari live Perché te poi assaggi un po' tutto E l'amaro Ma è sempre Cioè Piaciuto in generale Come concetto Poi dipende la tipologia Perché alcuni sono veramente fake Altri so Mi sembrano veramente buoni Tra cui insomma Quando scopri il San Simone A Torino Dissi Ah E com'è? Di che sa? È abbastanza grumato Cioè anche se è del nord Non c'ha quella Tipologia diciamo Di amaro Un po' tipo il Braulio Che è un po' più Da erba Officinale Ma è un po' più Mediterraneo Ma non così tanto Come l'amaro del capo Sempre perché vogliamo avere Mille amici Che era buono una volta Ma ormai È proprio Un tanto al chilo Personalmente Un giudizio personale Perché non vorrei che magari Diciamo come Perché chiaramente Anche il Braulio Cioè Gran Riserva E versione Supermercato Chiaramente non può essere Proprio la stessa cosa Insomma L'amaro del capo Pure è un po' così Cioè ricordo alcuni Amari del capo Buoni Altri invece che dici Boh vabbè è freddo Fa caldo Però l'amaro del capo Non c'ha la cosa Gran Riserva Eh c'ha un bottiglione Tipo a 78 euro Una cosa così Gigantesco Ha il declinato Tipo al peperoncino Cioè una cosa Che è buono Ma non so A me sembra diverso Ok Però una volta sola L'ho bevuto Però quindi comunque Il San Simone Torinese Sì Il San Simone Meglio del Braulio È veramente buono Meglio del Braulio Dici meglio del Braulio Beh sono proprio diversi Però a gusto mio Il San Simone Sì è meglio Vedi Ok Abbiamo imparato una cosa E forse Su questa lezione Io vi chiedo Un altro applauso Per il Piotta Grazie Per chi vuole Ci vediamo Venerdì qua A Roma Per la prima data Del E poi c'è tutto il tour Del tour Sì quindi giochiamo La prima in casa Perché appunto È un po' che non suoniamo Con tutta la band Sono due ore belle piene Faremo tutti i pezzi storici Di molti di questi Ne abbiamo parlato oggi Fino a tutti A che È il video Il singolo nuovo Per chi può andarlo a sentire Insomma sta su Chiaramente Spotify YouTube E tutto il resto E poi visto che la puntata Esce tra un po' Pure per le persone a casa Tutto il tour dopo E poi vabbè tanto i social È Piotta Tommaso Quindi sia Instagram Che Facebook Dai Grazie mille Di nuovo un altro applauso all'Ostria Ciao Fatelo anche a Stefano Rapone A Snodo A The Comedy Club Fate un applauso anche a voi Che siete rimasti Con noi Grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti Ci vediamo Alla prossima puntata Ciao Ciao